Questa mattina apriamo un corso al quale tengo particolarmente per il tipo di tematiche che verranno affrontate e lo vedrete nello sviluppo del corso stesso, un corso dedicato all'ottimizzazione strutturale e come vi verrà descritto in modo credo efficace ed estremamente dettagliato verranno illustrate delle procedure che sono fondamentali per la progettazione strutturale e mi permetto di avanzare anche il concetto che sono fondamentali per il progetto to cure perché si toccano degli aspetti e si affronteranno degli aspetti che effettivamente hanno un'influenza decisiva nella progettazione. Questa influenza decisiva è legata all'utilizzo del software nella progettazione, in particolare del software che possa in qualche modo portare a delle soluzioni che sono strutturalmente ottimali, delle soluzioni diciamo resistenti per forma e che effettivamente condizionano ormai in modo inequivocabile il percorso progettuale come dicevo to cure. Il corso è stato organizzato da il collega Franco Bontempi che volevo presentarvelo ma non credo abbia bisogno di presentazioni soprattutto in questo consesso professore ordinario di tecnica delle costruzioni, si occupa da sempre di questioni legate alla progettazione strutturale approfondendo gli aspetti teorici e in particolare anche quelli applicativi e dunque il contributo che lui potrà fornire sia per tutti i dottorandi che per i professionisti e per mi auguro studenti che ci seguiranno sarà essenziale. Il corso ospiterà le relazioni di altri colleghi di altre università come la professoressa Elanamele della Federico II e Valentina Tomei della non mi ricordo il sì no non riesco a leggere perché è buio eh dell'università degli studi Niccolò Cusano e il collega Francesco Petrini che invece è del nostro dipartimento del dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica che anche offrirà il il suo contributo. Mi auguro che possiate ehm trarre il massimo beneficio da da questa offerta formativa ci sarà anche un mio contributo eh di carattere maggiormente qualitativo che coinvolgerà come vedrete anche alcuni studenti alcuni laureati che che si sono cimentati con queste tematiche proprio sprofondendo l'aspetto progettuale che stavo anticipando e vi auguro una buona fruizione del corso. Ringrazio soprattutto tutti eh le persone che sono in aula e sono in presenza perché abbiamo bisogno di ricominciare le nostre attività eh con la possibilità di avere un confronto e un contatto in presenza e lascio la parola al professor Bontempi. Ma non stai registrando Marco? Perfetto. Buongiorno a tutti eh io sono Franco Bontempi e eh mi trovo in questa bellissima aula nella facoltà di architettura e eh sono contento di essere qui perché anche se sono eh professore di eh eh sono professore di ingegneria credo che in questo momento qua storico la la facoltà di architettura rappresenti al meglio quello che è la tradizione quello che è ehm il tema che affrontiamo oggi. Infatti credo che ehm nelle facoltà di architettura adesso questo periodo storico in questi anni qui forse è la sede dove ehm si insegna di più la progettazione in termini generali mentre magari noi ingegneria in questi ultimi anni siamo un po' ripiegati su noi stessi sulle eh sugli aspetti normativi e anche eh infatti la mia lezione a presentare anche alcune critiche eh su questo modo di insegnare. Prima di cominciare volevo appunto ehm presentarvi quello che è il tema della della mia lezione anche in generale del corso che coordino. Voglio anche ringraziare eh il dottor Andrea Rena che mi ha aiutato nell'organizzare questo questo evento e anche il dottor Marco Pingaro che è qui con me che mi aiuta eh nello svolgimento operativo della della riunione. Indubbiamente anche voglio tornare sulla figura della persona la professoressa Trovalusci che è mh delegata dalla retrice per quanto riguarda l'internazionalizzazione dei dottorati che è uno dei compiti più difficili e delicati al giorno ad oggi anche per rendere eh meno provinciale la nostra eh la nostra università. Eh e ringrazio anche proprio la professoressa Trovalusci per avermi concesso il permesso di svolgimento di questo corso in questa bellissima aula qua alla facoltà di architettura. Ecco se entriamo nel merito del nostro corso eh io trovo che sia necessario riflettere al giorno d'oggi quelle che sono le basi della progettazione strutturale in senso ampio e anche in particolare dopo arrivare fino agli aspetti anche di dettaglio della ottimizzazione strutturale. Questo perché eh paradossalmente l'introduzione, la possibilità di utilizzare strumenti estremamente sofisticati sia di calcolo ma anche di rappresentazione grafica e informatica. Mi riferisco al BIM e poi infine per noi ingegneri soprattutto per pensare alle norme. Ecco tutto questo insieme di possibilità ma allo stesso tempo anche di eh strumenti che possono eh annebbiare quella che è la chiara visione di un progettista strutturale. Mi chiedono appunto di tornare indietro e eh riflettere quello che è la natura eh del progetto. Questo verrà fatto in queste eh essenzialmente in queste tre giornate che qua vedete nel programma che adesso scorriamo velocemente. Io penso di introdurre aspetti di progettazione strutturale in una maniera forse desueta. Eh io mi ritengo un professore di tecnica eh delle costruzioni, professore tradizionale. E quindi mh presenterò in questa lezione qua quelli che sono secondo me i presupposti spesso impliciti o non ricordati, non evidenziati di quello che è la progettazione strutturale. È un punto di vista sicuramente non non forse consueto al giorno d'oggi. Nel pomeriggio ci sarà il dottor Petrini che entrerà più nel merito su temi specifici e nel secondo giorno invece mi permetterò eh anche in base alla mia esperienza come analista strutturale di trent'anni che ho fatto analisi di tutti i tipi anche formulando programmi elementi finiti, programmi di ottimizzazione eccetera. Eh mi permetterò di farvi vedere anche aspetti numerici che non sono sempre evidenziati. In genere nelle storie che si sentono, si raccontano, c'è la narrativa in cui tutto funziona, tutto va bene e così via. E questo è vero ma spesso volentieri se il problema è semplice. Se non è semplice cominciano ad esserci problemi di convergenza, di rappresentatività, di cose che non tornano e così via. E anche un aspetto che è sempre delicato è quello dopo di valutare la soluzione che si ottiene. Perché c'è un po' una rappresentazione se volete anche commerciale e utilizzando un programma, un certo software e così via, la soluzione esca automaticamente. Io credo, anche sulla mia base, sulla mia esperienza, che nella progettazione strutturale, come in tanti altri tipi di progettazione, non c'è nulla di automatico. questo da una parte è una cosa che può indispettire perché uno vorrebbe qualcosa, un prodotto finito subito, però è anche una cosa importante perché permette al singolo progettista con la sua cultura, la sua capacità di giudizio, la sua euristica, di valutare la soluzione e anche le volte accorgersi se c'è qualcosa che non va. Un aspetto che per me personalmente come professore, ma anche come consulente, come ricercatore, è essenziale, è anche la relazione che c'è tra quello che si fa, in termini di consulenza, di ricerca, ma in connessione con quello che si insegna. Quindi, per esempio, secondo me è molto importante l'intervento della professoressa Trovalushi che farà vedere anche aspetti, diciamo, proprio di didattica. Quindi, per esempio, illustrerà anche delle tesi di laurea in cui si vede come si riesce in maniera semplice, intendo dire semplice nel senso positivo, una connotazione positiva, in maniera semplice si riesce ad avvicinare le persone con i giusti principi, gli studenti, con i giusti principi alla progettazione. Terzo giorno, l'ultimo giorno che sarà venerdì, invece ci sarà una parte, diciamo, la mattinata più numerica e se volete anche più didattica. Chiesto in particolare alla dottoressa Comey di sviluppare con riferimento alle strutture tipo grid shell, però anche riservare un po' di spazio, anche gli aspetti numerici più di basi che magari non sono stati visti precedentemente. L'ultimo intervento venerdì pomeriggio. Tra l'altro sarà presentato anche, sarà anche la presenza di una collega che io stimo molto perché è impegnata anche lei nell'attività di ottimizzazione e lavora sia con Comey che con Mele che è la professoressa in bimbo dell'Università di Cassino. Bene, l'ultimo intervento è la professoressa Mele che ha una posizione, un ruolo ben chiaro all'interno della comunità accademica italiana e riguarderà, svolgerà un intervento su una categoria di strutture speciali che è quella degli edifici alti. Quindi vedete in questi tre giorni qua, io spero che partendo dalle mie considerazioni critiche, se volete anche ovvio, sicuramente dimenticate, su quello che è la base della progettazione strutturale, verso temi più specifici come quelli del performance based design fatto dal dottor Petrini oppure le strategie di ottimizzazione per le strutture grid shell fino ad arrivare agli edifici alti. E non dimenticando l'intervento sul coinvolgimento degli studenti di laurea della professoressa Trovalucci, spero che abbiate, non sicuramente, non avrete sicuramente un quadro complessivo della progettazione e ottimizzazione strutturale, avrete, penso e sono sicuro anzi, uno sguardo magari non ovvio, non banale, non di quelli usuali sull'ottimizzazione strutturale. Detto questo, prima di partire, anche per farvi capire, per ricordarvi alcuni aspetti della mia formazione, di quello che ho sviluppato nel passato, e quindi anche un po' per farvi capire il mio punto di vista, voglio farvi vedere tre slide che mi riassumono. Io nell'83, quando sono arrivato al Politecnico di Milano, programmavo perforando le schede. Io sono sempre stato un programmatore, quindi per almeno 10-15 anni ho sviluppato codici di calcolo, analisi elementi finiti, statici, dinamici, lineari, eccetera, perché negli anni, a fine degli anni 80, inizio degli anni 90, io, come tutti, come tutta la comunità, non avevo a disposizione strumenti di calcolo. Quindi negli anni io mi sono dovuto impegnare a costruire i miei strumenti di calcolo, tra l'altro ero un dottorando in quegli anni lì, quindi la mia famiglia, io sono di origine metà austriaca, vengo da Bolzano, quindi a Milano stavo sulle spese. Quindi la mia vicenda accademica è iniziata anche, mi sono mantenuto durante il dottorato facendo calcoli. Quindi ho cominciato proprio, sono contento di questo, mi è servito molto, anche se è stato un periodo pesante, chiuso nelle scantinate del Politecnico a fare calcoli, è stato un periodo che mi ha formato molto. Non so quanti di voi sanno questa immagine cosa rappresenta. Questa qui è la memorizzazione di una matrice di rigidezza di formato skyline. Perché in quei tempi là, per esempio, era difficile avere anche risolvere problemi con migliaia di equazioni. Mentre adesso sul mio portatile, quando in questi giorni qui, quando vado da Roma a Milano sul mio Eurostar, adesso sto analizzando un problema strutturale che ha 700.000 gradi di libertà. E una mezz'oretta, così un'oretta, mentre sono sul mio Eurostar, faccio l'analisi, guardo come va l'analisi, poi cambio il mio progetto e così via. Questo anche per farvi capire la differenza, tutti i passaggi che ci sono stati in questi trent'anni sulle potenzialità di calcolo. E proprio perché ho smontato e rimontato la macchina migliaia di volte, mi permetto, mi permetterò nel seguito del mio intervento, di far vedere alcuni spunti, alcune cose e magari essere critico su certi strumenti o sull'utilizzo di certi strumenti. Questo è il mio primo incarico come docente universitario. In quegli anni lì ero ricercatore al Politecnico Milano di Scienze delle Costruzioni e mi è stato affidato un corso alla Facoltà di Architettura della Bovisa, del Politecnico Milano, che nessuno voleva fare. Io, siccome ero l'ultimo arrivato e avevo bisogno di costruirmi un curriculum, ho accettato questo corso che nessuno voleva, e probabilmente l'ho avuto perché nessuno lo voleva, e il corso era il corso di ottimizzazione e identificazione della struttura presso la Facoltà di Architettura di Bovisa e Politecnico Milano. Quindi, vedete, io qui nel 97 ho cominciato per la prima volta a occuparmi di ottimizzazione. Questo, per esempio, è un esempio che ho fatto sulla trave Virendel. Dopo vi farò vedere alcune cose per dare anche un'idea di quella che è stata la mia evoluzione. Anche qui, se notate, per esempio, queste immagini sono schermate, ottenute attraverso un print screen di Word per DOS, che nel 97 non c'era ancora Windows, che era uno dei modi per restituire i risultati. Ecco, se voi pensate all'ottimizzazione, soprattutto l'ottimizzazione numerica, vi viene subito fuori questa funzione di test, per testare i vostri algoritmi. Una funzione, sì, c'è a banana, in cui vedete è una funzione estremamente cattiva perché ha dei canyon in cui il minimo si trova proprio in punti specifici, quindi diciamo difficili a trovare. Questo è l'inizio, anche l'inizio mio, come ho cominciato a fare 30 anni fa ottimizzazione, questa è una delle funzioni di test in cui provavo i miei algoritmi in quegli anni lì. Ecco, questa invece è la progettazione strutturale, in cui vedete è un mare in tempeste, in cui ci sono onde risvolti, un turbineo di cose, in cui vedete la banana, parte numerica, dov'è? E sta qua in mezzo, questa piastrella qui in tutta questa complessità, che è la progettazione strutturale. Io quando ero piccolo ho cominciato proprio in questa zona qui, poi anche grazie all'insegnamento che ho avuto, la possibilità di insegnare l'architettura per il corso lì, ho avuto anche la possibilità di ampliare il mio modo di vedere. Poi anche quando sono venuto qui a Roma mi sono trovato vicino dei progettisti notevoli che mi hanno allargato la visione. E in particolare quello che vorrei farvi vedere è questo. Domani cercherò di farvi vedere alcuni aspetti magari non noti a chi non ha fatto tante analisi, riguardano aspetti diciamo dietro la backstage di analisi numerica. Quindi parliamo di tutti quegli aspetti che sono formulabili, formulabili in senso di esprimibili in termini di equazioni e riguardano aspetti cosiddetti hard, no, duri dell'analisi numerica. Mentre quello che vorrei farvi vedere sono le cose di cui mi interesso attualmente anche e soprattutto in termini di consulenza. L'aspetto più grande è tutto il resto del mare con tutte le altre onde, quello che non è esprimibile in termini di equazioni che riguarda la progettazione strutturale. Per fare questo la prima parte di questo intervento, io farò un intervallo di cinque minuti per riprendere fiato a metà verso le undici e mezza, così. Ecco, il primo quarto d'ora, venti minuti, vorrei, mi permetto di mettere in evidenza il ruolo dell'ingegneria, intesa però anche in senso generale. Intendo qui anche, comunque, anche altre figure tecniche, come possono essere chiaramente gli architetti, in cui la differenza rispetto agli aspetti più strettamente scientifici è questa. Gli ingegneri oppure anche gli architetti che progettano creano cose, innovano cose, introducono cose che non esistono prima, mentre gli scienziati guardano, sono interessati soprattutto alle cose che esistono già naturalmente. Quindi, mentre gli scienziati si occupano di oggetti o di cose che sono naturali, gli ingegneri o anche gli architetti, quando progettano, si occupano di cose artificiali, intorno con delle innovazioni. E proprio il tema della progettazione è un aspetto che è delicato e difficile da insegnare. Per questo che, per esempio, io apprezzo il contributo e ho voluto, ho chiesto alla professoressa Trovaluci di fare proprio un intervento specifico sulle tesi di laurea, e su un insegnamento a livello più alto. Questo perché, come sanno sicuramente quelli che cercano di fare la carriera accademica, è difficile insegnare la progettazione, perché è un qualcosa di indefinibile, non formulabile, come ho detto prima. Mentre, per esempio, è molto più facile scrivere articoli, essere paper machine e scrivere equazioni, articoli con equazioni, anche su temi marginali, oppure temi che creano, come si dice, conoscenza inutile. Però, se ripensiamo anche a come si fa carriera proprio in questi tempi qua, purtroppo sono il sistema predilige il fatto che le persone scrivano articoli con tante equazioni e così via. Tant'è vero che uno dei trucchi tipici di un relatore di tesi di laurea, che aveva fatto una qualche tesi sulla progettazione, dice al suo studente, ma forse se metti qualche equazione la tua tesi viene accettata meglio. E questa è purtroppo una strategia per cercare comunque di salvaguardare lo studente, il lavoro che ha fatto, così via. Però ci sono delle osservazioni come qua, questo è il premio Nobel per l'economia, Simon, in questo bellissimo libro, in cui si parla, purtroppo adesso se uno vuole avere la rispettabilità accademica, deve concentrarsi su materie che siano intellettualmente difficili, analitiche, che possano essere formalizzate e insegnate. Tutto questo non è la progettazione e quindi viene lasciata ai margini, non insegnata e sulla quale non si fa o è difficile fare carriera universitaria. Il ruolo di ingegnere anche nella società e anche in termini più generali, secondo me, invece è descritto anche da questa iscrizione che si trova a Tropea davanti alla stazione, che riguarda, ricorda, l'ingegnere che è riuscito a sviluppare questo tracciato lungo la costa della Palabria per arrivare a Tropea. Questa è una cosa che è sostanziale. Il creare qualcosa è anche qualcosa che riesce a cambiare e a dare dei frutti verso la società. Allora, entrando nella prima lezione, riguardo a tutti gli aspetti non formulabili, questo è essenzialmente l'indice delle cose che vorrei farvi vedere. vorrei cominciare con alcuni riferimenti importanti, come quelli degli studi di Billington, poi farvi vedere alcune cose di Nervi, farvi vedere quello che è, quindi in questa prima parte, quello che viene detta structural art, cioè cosa il progettista produce, su cosa si concentra. Per arrivare alla progettazione, poi, dobbiamo vedere quella che è l'attitudine di una persona che voglia diventare un progettista e quali sono i valori che devono essere intrinseci alla progettazione. Dopo la pausa vi farò vedere come strutturare un problema che non è strutturabile, perché la progettazione è un problema non strutturabile, e vedremo alcuni aspetti che riguardano situazioni tipiche, pattern, quindi schemi di progettazione come questi qui, che possono fare da substrato agli aspetti specifici della progettazione, infine vorrei chiudere con aspetti relativi a, se volete, anche strategie per come progettare. In mezzo c'è l'analisi, alcune espressioni tirate fuori da un libro bellissimo che rappresenta, diciamo, con questa parola inglese vuol dire, si potrebbe tradurre come occhio della mente, o sesto senso, e questo qui è uno dei tanti libri che mi permetterò di indicarvi, perché io non credo sinceramente che in queste poche ore possa darvi tutto quello che si può ritenere importante nella progettazione. Quindi dopo anche ritrovare, rileggere, meditare con i libri che vi indico, che sono stati quelli che mi hanno formato in questi anni, penso che sia una cosa importante. Uno dei libri più significativi per me nell'ingegneria è questo qui di Billington, Billington, un professore di Princeton, che ha analizzato la storia, almeno quella recente, negli ultimi due secoli, dell'ingegneria strutturale, introducendo il termine art, nel senso indicare che le opere di ingegneria strutturale sono delle opere d'arte. Essenzialmente gli ingredienti che sono alla base della progettazione strutturale sono questi, efficienza, economia, e questi sono probabilmente termini che connotano da sempre, oppure nel nostro immaginario, connotano l'attività dell'ingegnere, e poi però, il momento dopo, c'è l'eleganza. Tra l'altro, io ho una presentazione anche molto lunga, alcune slide dopo le salterò per motivi di tempo, anche perché credo che sia comunque giusto allocare un tempo che sono le tre ore, eccetera. Resta il fatto, vi anticipo subito, credo che tutte le slide saranno rese disponibili alle persone che seguono, quindi dopo anche tanti riferimenti, anche tante frasi e così via, non preoccupatevi di appuntarvele subito, perché dopo comunque con calma avrete tutto questo materiale, che ripeto, è per forza di cosa necessariamente da approfondire, se volete effettivamente entrare nel merito delle cose. L'efficienza è una cosa che indubbiamente fa parte dell'ingegneria, della progettazione, e nelle frasi di Billington che qui trovate, gli aspetti relativi all'efficienza, quindi alle poche risorse, la conservazione delle risorse, il fatto che comunque abbiamo pochi soldi a disposizione, è visto non come un aspetto completamente negativo, ma come uno stimolo che permette lo sviluppo di soluzioni significative. Quindi questo è un tema ricorrente, alle volte sono proprio i vincoli che permettono la realizzazione di un progetto significativo. Quindi, vedete, l'economia è uno sprone, non un ostacolo, la creatività nell'arte delle strutture. L'altro aspetto è anche per contro, oltre all'efficienza e economia, il terzo aspetto, quello dell'eleganza, è qualcosa che è nato probabilmente, è presente da sempre, ma in tempi moderni, negli ultimi secoli, con lo sviluppo delle strutture, soprattutto del nacciaio, è un tema che è uscito fuori forse in maniera più evidente, anche in contrasto, spesso e volentieri, con le brutture del periodo industriale. E per contro viene fatto notare che anche il fatto che ci siano delle strutture brutte è forse dovuto proprio al fatto che magari non si è tenuto in conto negli aspetti di efficienza ed economia. Un confronto che è tipico dell'ingegnere è quello con la scienza. E qui lo scontro, spesso e volentieri, è duro, è nascosto e quasi sempre appare alla società che sia la scienza la parte vincente e predominante. Questo è un aspetto estremamente delicato perché per esempio c'è stata una lunga tradizione su questo aspetto qua. Per esempio negli Stati Uniti la National Science Foundation è nata su questi presupposti. quello che conta è la ricerca di base aspetti più scientifici che dopo servono a far avanzare anche l'ingegneria. Questo non è vero. Non è in assoluto vero. E questo modo convenzionale di vedere che la ricerca di base la scienza serva automaticamente a far propriedire l'ingegneria non è così vera. Per esempio uno degli esempi citati spesso e volentieri è questo quando voi salite sugli aeroplani voi notate per esempio tutti i Boeing l'Airbus eccetera in fondo le ali hanno un risvolto delle specie di curvature delle ali che sono introdotti chiaramente per aumentare l'efficienza aerodinamica dell'aeroplano quindi aumentare tipicamente il raggio di operatività dell'aero con quei winglet quelle luce risultate verso l'alto l'aeroplano fa più chilometri ecco quello lì che è una delle invenzioni più importanti nell'aeronautica è stato fatto è stata introdotta da una persona che aveva grande esperienza anche in laboratorio ma non aveva nessuna oltre a questo nessuna speciale abilità scientifica è stata una scoperta se volete possiamo dire artigianale ovvero se volete proprio nel senso vero della parola ingegneristica questa stessa persona che non ha avuto nessun ruolo accademico nessuna preparazione scientifica particolare era un ingegnere che lavorava in un laboratorio in una galleria del vento per esempio ha introdotto anche la seconda più importante innovazione nell'aeronautica diciamo moderna che è la conformazione della fusoliera negli aeroplani che superano la barriera del suono o una velocità supersonica quest'altra innovazione si chiama la legge delle aree che non sto qui a spiegarvi però è stata anche una delle invenzioni che ha permesso agli aeroplani di volare in economia in maniera migliore nel range di velocità supersonica è stata fatta da un ingegnere anche questo con un'osservazione quasi artigianale vedendo i risultati della galleria del vento quindi due invenzioni due più importanti invenzioni sull'aeronautica negli ultimi 60-70 anni sono state trovate da persone che non erano particolarmente interessate ad aspetti scientifici erano ingegneri quindi osservavano avevano idea osservando la struttura di come migliorarla quindi questo non vuole assolutamente svinulire il ruolo della scienza in generale ma vuole rivalutare il ruolo dell'ingegneria e forse alcune osservazioni che si possono fare cose più specifiche sono queste mentre attività scientifica riguarda teorie generali che cercano essenzialmente di unificare la conoscenza in maniera coerente l'ingegneria si occupa spesso lentieri di aspetti specifici unici strutture uniche quindi sono se volete due aspetti differenti due visioni differenti una guarda gli aspetti generali in termini assoluti della conoscenza dei casi che ci possono essere eccetera l'altro l'ingegneria riguarda un problema specifico una struttura specifica a cui bisogna trovare una soluzione specifica e questa unicità è forse la base anche di quella che è la creatività dell'ingegneria per esempio tutti voi conoscete Mayart il famoso progettista svizzero di Ponti questa persona è stata contrastata anche pesantemente dagli scienziati di allora perché la forma dei ponti che aveva in testa Mayart era non standard non quella diciamo consueta dal punto di vista generale scientifico quindi per esempio Mayart ha avuto delle difficoltà a sviluppare i suoi progetti proprio per questo motivo qua è uno scontro tra un'attività quella di Mayart se volete artigianale o se volete artistica unica sui suoi punti rispetto al modo di vedere scientifico generale che ha cercato di contrastarlo per esempio Mayart è riuscito a fare diversi dei suoi punti solo perché un professore del Politecnico Zurigo che era Mors ha detto no guardate lo schema di Mayart va comunque bene ma c'è stato un contrasto forte tra quello che era la scienza e quello che era l'ingegneria per esempio su questo caso ancora di più per esempio lo stesso Billington ha ritenuto che la causa del crollo del ponte di Tacoma che è avvenuto come sapete lo si vede spesso oscillare sotto vento e così via non era legato al vento ma era legato al fatto che quel ponte lì come tanti ponti italiani 30 e 40 venivano progettati su teorie generali e nella loro magnificenza però non comprendevano alcuni aspetti particolari come per esempio certi aspetti di rigidezza verso le citazioni dinamiche quindi l'aspetto scientifico generale e così via va bene ma forse in alcuni casi non coglie la peculiarità del problema specifico che abbiamo di fronte questo per quanto riguarda gli aspetti il confronto tra scienza e ingegneria sullo specifico sulla parte proprio diciamo di strutture per Billington una struttura ha sempre queste tre dimensioni questi tre aspetti queste tre caratteristiche una è sicuramente che deve obbedire le leggi di natura quindi la gravità e quant'altro il secondo aspetto dell'ingegneria la progettazione è che si ha un ruolo sociale quindi si immerge in quello che la società vuole e che desidera questo soprattutto sugli aspetti economici pensate prima all'immagine di quell'ingegnere che ha fatto alla ferrovia per tropea il terzo aspetto dell'attività di un ingegnere di un progettista strutturale ovvero di una struttura è l'aspetto simbolico il fatto che qualsiasi costruzione riflette i simboli della società al suo contorno ci sono anche degli aspetti anche altre osservazioni che si possono fare sempre su una struttura e riguardano anche la differenza per esempio tra una struttura e una scultura questo è un bellissimo libro di Schoedek che illustra tutte le tutti diciamo quello che sta dietro a una struttura a una scultura in termini strutturali e per esempio in queste frasi qui si trova la differenza di tutte quelle discipline che lavorano nello spazio conforme nello spazio per esempio una scultura essenzialmente riempie lo spazio con i suoi volumi un'architettura invece ora conforme nello spazio ma essenzialmente cerca di organizzare spazi vuoti per avere una funzionalità un utilizzo degli spazi vuoti e anche di racchiudere gli spazi la struttura invece quindi l'ingegneria lavora sempre nello spazio ma fondamentalmente per sopportare i carichi quindi per il progettista strutturale sicuramente c'è l'aspetto scientifico però dopo l'aspetto essenziale è quello l'idea centrale è quella di individuare delle forme artificiali nuove per controllare le le forze vi lascio alcune osservazioni queste sono tratte vedete qui che ho segnato il libro da cui ho tirato fuori queste frasi e l'ho fatto in tutta la mia presentazione perché adesso volentieri cito ricordo delle frasi che sono quasi iconocaste quindi quasi contro quello che usualmente si immagina sull'ingegneria sulla progettazione strutturale e quant'altro allora per essere sicuro di portare non le mie idee ma quelle di altri progettisti io qui accanto cito da dove ho preso le frasi questo è un libro di Peter Rice che era l'ingegnere strutturista per esempio che ha fatto il Beaubourg e quello di Piano a Parigi oppure ha collaborato sull'opera house di Sidley e così via quindi uno dei maggiori strutturisti dell'ultimo secolo e per esempio vedete qui c'è anche questo grido di di orgoglio io sono un ingegnere alle volte mi chiamano architetto ingegnere per per dirmi qualcosa di più perché ho gli aspetti anche forse qualcosa di più artistico e Peter Rice dopo in queste frasi che potete guardarvi con voi trattere questo bellissimo libro invece dice no guardate io sto semplicemente facendo l'ingegnere ma lo fa con un tono da una parte di umiltà come dire guardate così se no non fare l'ingegnere non fare il progettista e dall'altra parte però anche con orgoglio perché io costruisco cose che sono che sono belle in particolare dopo l'ultima slide della lezione di domani sarà proprio una frase di Rice che ricorda questo aspetto qua ecco alcune altre osservazioni sono legate al ruolo della progettazione strutturale e all'uso di strumenti di calcolo questa ultima parte qui dopo si può cercare nelle osservazioni critiche che fa Nervini sui libri spesso volentieri anche al giorno d'oggi si dice gli strumenti informatici sembrano essere predominanti siamo anzi quelli che conducono a una progettazione ottima e qui Billington dice no non è così perché per esempio nei termini di strutture guscio negli anni 55-80 persone come Nervi e altre hanno costruito hanno realizzato delle opere che fondamentalmente funzionavano bene perché erano strutture sane c'erano delle forme che controllavano le forze in maniera ottimale e quindi tutto quello che riguarda anche la computer graphics eccetera e anche il BIM eccetera sono cose sicuramente utili ma sono e restano strumenti poi ci sono delle osservazioni anche riguardanti i regolamenti quindi le norme il corpus normativo soprattutto per noi ingegneri qua in Italia in questi ultimi anni è diventato creve pesantissimo e Billington fa effettivamente notare che non è attraverso le norme che si possono ottenere in maniera a valle delle norme anche complesse e quando ottenere le strutture significative di i nervi questo libricino qua scienza a parte del costruire vedete che giriamo sempre a questo aspetto qui per queste persone qua queste che cito la progettazione strutturale quindi l'ingegneria è una struttura è anche arte anzi più vicina all'arte di altro a valle di questo libro scienza arte del costruire era stata anche una protesta una critica notevole feroce verso Nervi perché Nervi aveva diciamo era sembrato che Nervi criticasse o sminuisse l'approccio scientifico le equazioni i calcoli per fare un progetto e quindi sulla prima pagina dell'ingegnere del luglio il 31 era stata questa alzata di scudi dicendo no le equazioni i calcoli e così via servono e in effetti Nervi nel suo testo non aveva proprio criticato in maniera completa l'aspetto scientifico nella progettazione strutturale però aveva detto che spesso volentieri gli aspetti analitici gli aspetti scientifici disturbano la visione del problema strutturale per esempio negli studenti anche provocano dei distacchi dalla mentalità necessaria per fare un progetto in maniera sintetica coerente chiara facendo perdere di vista agli studenti quella che è la sensibilità statica che un progettista deve avere e che è quello che serve e in particolare per esempio anche apparati analitici pesanti possono allontanare dalla comprensione della comprensione del comportamento strutturale e in particolare per esempio una delle cose che cita a volte ci sono delle esattezze scrupolose nelle teorie che però sono solo approssimative rispetto alla realtà quindi tu usi un approccio estremamente sofisticato e rigoroso però su una cosa che è più sfumata più imperfetta e quindi usi uno strumento che non si adatta a quello che è la realtà e su questo per esempio ci sono delle frasi che sono significative su cui bisognerebbe meditare anche e soprattutto per i professori che insegnano l'invenzione strutturale non è favorita da eleganti soluzioni matematiche e cita per esempio dei casi in cui si sono confrontati in seminari personaggi famosi come Giulio Kral e Gustavo Colonetti sul fatto che c'erano delle formulazioni bellissime dal punto di vista analitico però non riflettevano quello che è la realtà fisica quali sono le attitudini l'orientamento che una persona che voglia fare la progettazione deve assumere questo è un libro se volete quasi mai citato nella facoltà di ingegneria che secondo me invece spiega bene in termini elementari chiari come in una facoltà di architettura cos'è la progettazione tutti voi conoscete Munari come famoso designer uno dei più famosi designer italiani anche internazionali che in questo bellissimo libro da cosa nasce cosa illustra qual è il metodo progettuale e il metodo progettuale per esempio è una delle frasi che trovo assolutamente adeguate chiaramente questo libro qui non l'ho scoperto per caso mi è stato indicato da uno dei miei professori e all'inizio quando ho avuto in mano questo libro qua sul design sono rimasto un po' pensare non so alle sedie tavoli divani lampadari eccetera sono rimasto un po' perplesso però in effetti questa frase qui di Munari è vera il metodo progettuale non cambia molto se tu parli di progettare un divano un mobile un ponte un aeroplano è una cosa notevole e in effetti l'aspetto comune è che sono tutti attività di problem solving in cui tu risolvi un problema di progetto a scale geometriche chiaramente differenti però l'attitudine l'approccio è lo stesso il metodo progettuale è essenzialmente qualcosa che serve a fare le cose a conoscere le cose poi sia un divano oppure un grattacielo l'approccio è lo stesso è un'attitudine costruttiva quindi un modo di approcciare il problema per fasi costruendo la cosa costruendo la soluzione un aspetto subito che richiama Munari che è importantissimo è questo creare una cosa non vuol dire improvvisare senza metodo questo è un aspetto difficile perché richiede quella che è una disciplina quindi ci vogliono anche anni di apprendistato di approfondimento per diventare progettisti non è una cosa così tanto per fare ed è un aspetto importante della disciplina dell'approccio giusto al costruire la soluzione quindi costruire una struttura per esempio e c'è questa distinzione tra progettista e professionista che svolge l'attività con precisione sicurezza senza perdite di tempo quindi una sobrietà nel modo con cui fa le cose rispetto ad altre persone che hanno atteggiamenti più immaginifici qui c'è una critica anche a quelle che sono il giorno d'oggi anche le archistare e su questa critica per esempio Munari mette in evidenza il disvalore disvalore quindi il valore negativo di quello che è il lusso questo è un aspetto che provo essenzialmente importante per i progettisti in particolare per gli ingegneri la sobrietà con cui si sviluppa una soluzione qui c'è anche il richiamo un'altra frase relativa sempre al lusso in contrasto che con l'onestà è la sincerità della struttura una frase di nervi chiaramente secondo valore che Munari mette in evidenza la semplicità di semplificare le cose ed è un aspetto che è un lavoro difficile che esige molta creatività di semplificare poi Munari anche per esempio fa un'osservazione critica che è molto è un'osservazione di uno che lavora sul concreto fare una cosa semplice dopo si rischia di non farla capire al committente quindi se volete anche in termini brutali non essere pagati perché la critica ma se è così facile se è così semplice e invece dietro questa semplicità anche per nervi c'è un lavorio una disciplina pesantissima quindi la semplice correttezza non è un risultato negativo non è qualcosa di mediocre di scarsa importanza è un aspetto che è essenziale ci sono aspetti anche richiami a temi anche oggi forse anche sostenuti in maniera un po' per moda come la sostenibilità eccetera resta il fatto che un'opera strutturale non ammette soluzioni arbitrarie o formali quindi è figlio di tutta questa disciplina nel creare qualcosa ci sono altri un altro paio di libri che usualmente in generia non entrano non sono spiegati riguardano aspetti più più sottili che invece nelle facoltà di architettura sono più frequenti e riguardano per esempio questo libro qua penso che voi lo conosciate tutti riguardo oggetti del design e essenzialmente si entra su quello che è il tema della ergonomia dell'oggetto di quello che si progetta questa qui è chiaramente una cafetiera non ergonomica perché per versare il tè caldo uno deve versarsi il tè caldo sul polso ci sono anche altri libri che a me piacciono molto che vengono dal mondo del design quindi sono anche lontani dalla mia formazione di formazione ingegneria strutturista ma però mi hanno permesso nella mia attività di capire come fare una struttura anche se non è la cafetiera e in termini generali questo è forse uno dei temi più difficili della progettazione perché l'ergonomia è quella disciplina che si occupa dell'interazione tra un sistema e lo scopo per il quale ha progettato sia che sia la cafetiera sia che sia una passarella pedonale e questa passarella pedonale non è ergonomica perché può essere utilizzata con difficoltà dalle persone che scivolano sui gradini di vetro oppure può non essere utilizzata dalle persone che sono disabili sulla carrozzella e quindi questa struttura non sana non ergonomica ha bisogno di continui patch di pezze per funzionare quindi questo è un lusso che vedete si è ritorto contro perché la struttura non funziona non è ergonomica io spesso volentieri parto con dei concetti che magari sembrano lontani da quello che è la pratica usuale dal mio ponte in acciaio dalla mia però ci sono degli agganci ovvi e spietati tra i concetti che cerco di introdurre e la realtà questa è una struttura che non va punto se volete è una scultura che occupa un certo spazio come abbiamo visto prima ma non serve questo è un altro libro che spiega in termini se volete narrativi quella che è la qualità in questo caso qui di una motocicletta di un prodotto industriale però questo è un libro che spiega la qualità è citato anche dai vari autori anche quelli Ferguson vedremo dopo oppure Billington sono persone che studiano gli aspetti di struttura le citano questo libro e qui dentro si spiega qual è la qualità il significato il valore di una struttura Peter Rice che avevo citato prima per esempio usa dei termini differenti lui parla di tactile design disegno disegno progetto attile come se fosse qualcosa che tocchi qualcosa di carnale buono e questo per una situazione in cui una struttura utilizza il materiale in una maniera migliore come se fosse l'utilizzo del materiale proprio connaturato all'oggetto che si considera quindi c'è questo proprio feeling tra la struttura e come appare le persone qualcosa di tattile di carnale pensate anche alle volte una delle cose più belle da fare quando progettate qualcosa è anche passare la mano sulla texture sulla grana del vostro per esempio setto della vostra facciata e quant'altro come è fatta è un aspetto proprio fisico toccare la struttura sentirla con le mani e anche per esempio pensare avere l'idea di tutte le persone tutte le cose che sono passate per quella struttura e passeranno qualcosa proprio di fisico anche se volete di animale quindi qui stiamo parlando di aspetti della struttura che sono veramente vedo possono sembrare lontani da quello che è l'ingegneria normale la progettazione però sono sensazioni proprio dell'intimo dell'uomo e di come interagisce con la struttura non voglio entrare oltre su questa attitudine qua voglio soltanto riprendere alcuni aspetti forse anche di sintesi di questa prima parte della lezione riguarda dell'importanza qui c'è ancora nervi della comprensione del comportamento statico di una struttura per esempio se voi adesso aprite dei libri di tecnica delle costruzioni recenti essenzialmente li trovate pieni di commenti di norme tecniche dei commentari o degli eurocodici che sono aspetti notarili che però sono lontani come abbiamo visto dalla progettazione vera e propria mentre ci sono dei libri vecchi se volete e io in questa sono un vecchio professore di tecnica per esempio questo è un libro di Pagano teoria degli edifici in cui viene espressa quella che è l'esperienza quotidiana l'osservazione di una struttura da parte di questo professore Federico II professore tra l'altro che credo sia rimasto associato non si è mai diventato ordinario forse anche per il taglio con cui insegnava e faceva anche di conseguenza ricerca bene nel libro di Pagano ci sono i figure che rappresentano modellini modelli le strutture in muratura come si comportano per far capire lo studente veramente guarda l'oggetto è questo la realtà è questa poi ci sono anche equazioni però l'oggetto è questo e questi sono libri che permettono la formazione della mentalità di un progettista dopo nel slide che vi leggerete ci sono critiche e osservazioni successive di nervi sempre su quello che si può quello che è corretto fare in termini in progettazione è quello che invece alle volte diventa un contrasto alla progettazione sana per esempio nervi arriva sottolinea più volte l'importanza della sintesi della comprensione immediata della struttura della creazione dello schema strutturale corretto che rivendica ancora più volte il fatto che l'ideazione del sistema resistente è un altro creativo e invece fa notare come delle incertezze sul capire la struttura come funziona porta degli estremi degli esempi delle ricadute pesanti la struttura non funziona bene quindi per esempio se la struttura non è sana dall'inizio lo schema strutturale il meccanismo portante non è chiaro individuato dall'inizio non c'è niente da fare tu puoi ottimizzare quello che vuoi la struttura resta impedita quindi anche qui il passo iniziale è quella che è la concezione strutturale poi il resto può solo affinare la bontà o non correggere la la bontà della struttura prima dell'intervallo vorrei ancora guardare con voi velocemente quelli che sono dopo l'attitudine generale che vi ho fatto vedere spero di avervi o magari vi ho solo fatto vedere precedentemente attitudine costruttiva volete anche secondo me un aspetto importante è l'umiltà nell'osservare nel riconoscere la realtà fisica e dopo operare e per esempio anche il fatto che è la realtà che governa la visione analitica l'impostazione analitica e scientifica segue la realtà sono conosco miei colleghi professori anche acclarati che hanno le loro equazioni e vogliono che la realtà si adatti alle loro equazioni non è così sono le equazioni che si devono adattare alla realtà bene dopo questa parte qui vediamo quelli che sono i valori dopo l'attitudine del progettista i valori che un progettista deve avere ci sono delle osservazioni significative sempre qui dal libro di Munari poi però i valori probabilmente sono quelli che almeno io ho imparato con dure lezioni lavorando sotto progettisti importanti come professor Calzona che era ordinario di tecnica ingegneria prima di me e vicino in questo apprendistato secondo me è inevitabile per qualsiasi persona che voglia essere un progettista un apprendistato se volete proprio come alle volte si dice andare a bottega questa sembra una cosa una connotazione negativa non è così e tu impari il mestiere nel momento in cui si svolge l'azione l'operazione quindi come dicono i militari un conto è andare all'accademia a West Point e imparare come si conduce la battaglia a West Point un conto è invece operare in fase condotta i militari operare in fase condotta vuol dire questo tu sei sul campo di battaglia e devi vincere la battaglia quindi magari a West Point ti dicono guarda e tu hai un cannone o hai un fucile a traiettore migliore quella parabolica che fa quando sei in fase condotta il fucile magari lo prendi per la canna e lo dai in testa all'avversario oppure usi la baionetta la fase condotta è sempre sporca si sporca imperfetta imprecisa incerta ma perché si svolge nella realtà nella contingenza del progetto e nella contingenza del progetto tu devi avere dei valori chiari poche cose perché più le decisioni devono essere prese in tempi brevi all'istante più sono cariche di conseguenza più tu devi avere poche cose in testa perché se no ti perdi nei rivoli 800 pagine delle norme tecniche per cui perdi attenzione a quello che è l'obiettivo la prima cosa è la semplicità qualsiasi progetto strutturale deve essere semplice in assoluto le cose semplici la semplicità è uno degli aspetti fondamentali della progettazione strutturale per vedere anche dare utilizzare anche i materiali che sono connaturati in maniera semplice diretta alla struttura che tu devi fare la seconda cosa è questa una struttura deve essere più regolare possibile regolare in tutti i termini regolare in termini geometrici di una struttura filante anche a regolare in termini dell'utilizzo del materiale evitare tutte le discontinuità tutte le singolarità tutti gli strati limite in termini intenzionali e per me la regolarità è rappresentata dagli scafi di queste navi a vela queste sono le immagini che io ho scelto per trasmettere l'idea di regolarità di struttura filante senza discontinuità senza scatti o distorsioni il terzo valore ed è connaturato alla progettazione la progettazione essenzialmente si basa su due aspetti come abbiamo visto è un'arte quindi nell'arte c'è un processo decisionale se volete un atto di forza il progettista che decide di fare questa cosa di scegliere questo schema strutturale questa è la prima cosa dall'altro aspetto la progettazione è basata su una previsione di quello che succederà con la struttura se io progetto un ponte penso che questo ponte vivrà cento anni almeno e ci sono delle se uno si ferma a ragionare su questo aspetto qua è veramente uno resta quasi paralizzato è per quello che semplicità e regolarità sono essenziali se pensate per esempio a un ponte adesso fate un viadotto in mezzo alla campagna in una periferia di Roma fate un cemento armato precompresso quello che volete con certe caratteristiche dell'ambiente in termini di aggressività le genti aggressivi nell'atmosfera passano vent'anni quello che era una campagna diventa una zona industriale vicino o sotto il vostro viadotto viene emesso un qualche impianto qualche piccolo officina o qualche piccolo impianto chimico e vengono emesse quindi dei fumi o dei gas con una certa aggressività chimica quello che è la durabilità della nostra struttura improvvisamente collassa perché quello che era un ambiente aggressivo poco aggressivo perché era in aperta campagna diventa invece la zona industriale con aggressività dieci volte cento volte più grande dovevate prevedere la trasformazione da ambiente agricolo da terreno agricolo a terreno industriale come fate? come pensate questa cosa qui? oppure anche pensate adesso quello che si dice le climate change come fate a pensare per esempio anche su un ponticello e più o meno il climate change implica questo se voi avete cento millimetri di acqua prima del climate change questi cento millimetri di acqua di precipitazione erano spalmati su tutto l'anno dopo il climate change avete ancora cento millimetri di acqua di precipitazione acquosa ma ce l'avete concentrate in due giorni quindi anche lì prevedere come è fatto il ponte il ponticello e così via è un aspetto che è nella natura della progettazione pensare a quello che succederà e come vedete da questo diagramma qui se voi avete una base di dati delle esperienze nel passato e sono questi punti qua di un certo valore di una certa entità dell'azione quello che volete il vento la pioggia o il traffico beh se siete qua dentro potete fare tutti i vostri schemi di interpolazione di approssimazione però se dovete estrapolare al futuro e magari quello che dovete avere è questo valore qua la cosa non è immediata perché l'approssimazione magari è una retta ai minimi quadrati che potrebbe essere questo andamento un'interpolazione di Lagrange magari vi arriva un polinomio che andrebbe verso il basso quindi questo è un aspetto significativo questo è un libro bellissimo di Fargus dopo vedremo forse velocemente tutto quello che fa un progettista un ingegnere deve essere prevedibile e controllabile e Ferguson per esempio parte analizzando i progetti delle fortezze che erano fatte in Italia durante il rinascimento il progettista doveva prevedere tutte le traiettorie dell'artiglieria in modo tale che la fortezza sia efficace nulla lasciato al caso non c'è nessun posto in ingegneria cosa che non sono imprevedibili e questo è un aspetto difficile io prevedere quello che succederà è una cosa quasi divina e in termini più recenti questo aspetto qui che fa riferimento anche alle responsabilità professionali di un progettista riguardo la precauzione per noi ingegneri in particolare dobbiamo essere assolutamente dirigenti nella nostra professione i riti nella nostra previsione e tauti se dimentichiamo uno di questi tre aspetti della nostra professione per esempio è ben noto ai libri professionisti che si può essere sanzionati dalla legge questo della precauzione è un aspetto notevole connaturato a un progettista deve essere circospetti cauti pensare a quello che succederà e termini anche più generali questo è tradotto nel principio di precauzione che è un principio generale in particolare per esempio ho introdotto soprattutto quanto riguarda le medicine ma vale per tutto per tutte le nostre attività e per esempio questo principio può sembrare lontano magari dalla nostra pratica ma se riflettiamo questo non è il caso per esempio questo è un congresso New Structures degli anni 60 in cui veniva presentato come nuovo materiale magico l'asbesto che è l'amianto l'amianto mescolato con la malta cementizia eccetera produceva un materiale che effettivamente aveva delle caratteristiche notevolissime sia in termini di isolamento ma anche di resistenza statica dopo si è scoperto che l'amianto non andava bene per altre cose non era stato cauto l'utilizzo di questo materiale anche qui vedete io cerco alle volte di vorrei anche le volte voglio le volte di chiamare come ho fatto prima con l'orgonomia però vi ho fatto subito vedere un controesempio qui uso il principio di precauzione però vi dico guarda che non è una cosa banale perché qui è successo pensate a tutti i problemi che ci sono ed è successo ripetutamente questa è anche per dire la cautela che il progettista deve avere nell'introdurre nuovi materiali nuove tecnologie nuovi oggetti nella sua struttura ed è una cosa non banale perché spesso volentieri adesso ci sono dei propugnatori di materiali nuovi innovativi quant'altro che sembra una soluzione di tutti i problemi faccio vedere un altro esempio che vi deve mettere mettere il progettista in cautela in allarme e tra l'altro queste cose qui sono il motivo per cui è necessario avere per il progettista la cultura di quello che è alla base della sua attività e conoscere la storia delle strutture realizzate nel passato perché in questa maniera qui si trovano sia esempi positivi ma anche esempi negativi questo qui è un ponte di cui mi sono occupato quando ero giovane dottorando e su cui facevo stato a fare dei calcoli per vedere se poteva andar bene oppure no ed è un ponte anche di un certo un ponte ad arco tre cerniere in arco ribassato una cerniera sta qui una qua una qua ed era un ponte così significativo che è stato anche illustrato presentato su uno dei giornali più importanti della tecnica italiana che era l'industria italiana al cemento è un ponte inizio degli anni realizzato a fine anni settanta inizio degli anni ottanta vedete qui è un ponte con tre cerniere veniva costruito per assemblaggio a sbalzo di conci che sono tutti questi segmenti qua questo malloppo qua di calcestruzzo veniva ancorato con dei cavi di precompressione verso il basso dei tiranti la stessa cosa a spalla e dopo veniva costruito a sbalzo questo ponte inanellando tutti questi conci attraverso facciato di cavi di precompressione arrivato in chiave abbiamo posto l'ultimo concio che era una cerniera venivano tagliati i cavi che fornivano l'incastro alle estremità in questa maniera qui si realizzava una struttura isostatica una cerniera qua una qua e una qua cerniera statica che ha struttura isostatica che ha il suo vantaggio perché chiaramente per esempio non risente di abbassamento per realizzare questa struttura qua la parte qui più chiara è realizzata in calcestruzzo alleggerito e questo era fatto con materiale innovativo quindi per quegli anni lì e tanto è vero che nel seguito del giornale dopo il ponte vi faccio vedere anche faccio pubblicità al materiale come anche corretto diciamo ovvio solo che la cosa in pauta è stata il fatto che questo materiale questo palcestruzzo alleggerito che andava bene per tutto il resto aveva una buona resistenza a compressione quindi era quello che doveva fare quando lo schema era realizzato però è un comportamento reologico quindi viscoso nel tempo che era maggiore calcestruzzo normale che vuol dire che i conci si accorciavano di più a passare del tempo a man mano che erano compressi che vuol dire che i due tratti di arco a treccia nere si accorciavano sempre di più il ponte era già un arco a treccia nere ribassata il ponte si abbassava sempre di più e questa è la situazione in cui è evidente l'abbassamento l'impuntatura del ponte a crescere del tempo fatto sta che vi vedete ad un certo punto sono state è stato necessario fare delle verifiche di sicurezza perché il ponte rischiava di snappare snap back verso il basso e quindi con l'assare quindi vedete come anche ci sono secondo me è importante avere i contetti generali l'ergonomia il principio di precauzione eccetera perché dopo sono declinati in migliaia di situazioni che possono essere pericolose e che sono non previste o non prevedibili o difficilmente prevedibili dal progettista in questo senso qua forse anche l'ambiente giusto in cui localizzare la struttura è pensare sul orizzonte temporale l'orizzonte temporale in cui la struttura vivrà con la sua traiettoria di vita questo è il punto in cui la soluzione viene inaugurata con certe qualità che possono essere rappresentate in termini sintetici dalla integrità strutturale nel tempo per ragioni termodinamiche si perde qualità con integrità con una modalità continua legata al fatto che ci sono comunque azioni ambientali che provocano la corrosione e quant'altro oppure ci sono azioni legate danni legati a reazioni antropiche come nel caso della fatica eccetera e poi ci sono anche comunque dei danneggiamenti che sono intrinseci il materiale anche se il materiale non è sottoposto a nessun ambiente particolare e non è neanche legato a non è neanche utilizzata la struttura pensate per esempio a certi tipi di plastiche le livi anche le cartellette di plastica i quaderni di plastica le cupertine lasciate lì cinque anni dieci anni poi si sfaldano sfarinano perché è così un degrado intrinseco al materiale pensate anche per esempio dover introdurre un materiale e non sapere se dopo n anni cinque anni dieci anni in confronto ai cento anni del mio ponte questo materiale si sfarina si sfalda si disgrega pensate anche ad esempio ai vostri parabrezza delle vostre automobili in cui c'è un contorno di gomma e se lasciate lì la macchina o vedete una macchina fuori da vent'anni sotto l'ambiente naturale vedete che già tutta la gomma si è sbriciolata pensate per esempio a certe strutture il giorno dell'inaugurazione sono stupende perché sono fatte da tanti parabrezza ovvero una copertura con tutte queste sfacettature tutte con queste gomme intorno cosa ne sarà di queste strutture tra dieci anni saranno come parabrezza della macchina di mio nonno di mio zio poi ci sono il giorno d'oggi anche sono diventati estremamente importanti eventi discreti in cui la struttura perde istantaneamente di qualità e quindi come se seguisse la sua traiettoria in un piano parallelo sono le situazioni in cui ci sono eventi accidentali quindi eventi anche non intenzionali pensate anche tempo fa sul raccordo di bologna sull'autostrada come si chiama l'autobotte è urtato esplosa si è incendiata e anche qui pensate per esempio in termini di struttura a parte le persone che sono sempre un valore inestimabile incalcolabile però pensate anche lì per esempio un tema attuale è questo l'autobotte quanto costerà centomila euro il pezzo di impalcato lì prefabbricato quanto costerà trecentomila euro ma quanto è costato a Bologna tutto il traffico ingorgo che c'è stato per esempio il ponte nuovo a Genova costa duecentomilioni sei mesi di introduzione del percorso del traffico eccetera ha costato seicentomilioni quindi per esempio una delle cose da valutare anche una progettazione strutturale non è tanto la struttura in se stessa che magari è una struttura più o meno semplice pensate anche le conseguenze l'indotto i costi diretti che ci possono essere dopo il 2001 dopo il 9 settembre gli atti deliberati terroristici e quant'altro sono stati significativi è entrata un'intera nuova branca dell'ingegneria in quegli anni lì io ero nel comitato scientifico del ponte di Messina facevo le analisi su quel ponte là subito l'interesse era passano aereo quanti pendini mi può tagliare come si può come si può pensare di fare un attentato devastante su un ponte come tu quindi authority devi proteggerti su questo aspetto qua ci sono anche poi tutti gli aspetti legati all'errore umano per esempio gli errori dormienti le cose che sono sbagliate però si attivano solo in certi momenti escono fuori all'improvviso come delle imboscate che ti minano la tua struttura o anche gli errori di manutenzione avete cambiato l'appoggio mi avete dato magari un appoggio che non è corretto la capacità portante l'avete sostituito però mi avete dato un appoggio che porta di meno per non parlare poi degli aspetti dolosi quando effettivamente non si fanno le cose che si dovrebbero fare tutte queste sono genere situazioni che emergono all'improvviso e minano la qualità strutturale l'integrità strutturale per esempio la capacità di sopravvivere a eventi di questo tipo qua discreti e alle volte anche pesanti inaspettati è legata alla proprietà strutturale della robustezza mentre il contrastare essere capaci di mantenere la propria qualità nel tempo per queste motivazioni qua termodinamiche è legata alla durabilità poi in fondo l'ultimo aspetto da considerare è la resilienza che è un termine al giorno d'oggi abusato di moda con cui tutti si riempiono la bocca per non dire niente resilienza vuol dire essenzialmente questo quanto più è facile riportare la struttura dopo che degradata per certi motivi a un livello soddisfacente quindi in un certo senso anche la riparabilità vorrei dire due parole su il valore della durabilità la durabilità è una minaccia che può essere dormiente nel senso che come vedete se voi fate anche un calcolo molto semplice pensate di appendere un lampadario con un cavo tipicamente la corrosione vi riduce il cavo di 8 frazioni di millimetro all'anno quindi l'area resistente si riduce al quadrato beh la corrosione anche in questo caso qui è un andamento di questo tipo qua per anni sembra che non succeda niente poi esplode esplode con un andamento che è iperbolico staccanto è una crescita esponenziale di una qualche quantità amplificazione del stato di sforzo però nel caso di compression di degrado di corrosione nel caso del vostro lampadario la crescita è iperbolica una funzione iperbolica ha un asintoto è una crescita maggiore ed è evidente che una protratta assenza colposa dolosa della dovuta manutenzione ordinaria dopo a un certo punto fa invocare un evento impredibile per cui si deve attivare la manutenzione straordinaria con costi che saranno addibitate a qualcun altro ma non a me che non ho fatto la manutenzione ordinaria questa è una cosa tipica di tutto il mondo però in particolare dell'Italia quante malfunzionamenti danni sono dovuti a fatti di Dio come si dice la struttura deve essere sana perché deve essere quindi sana nel senso non fragile non prone al degrado questa è una struttura fragile bellissima il giorno dell'inaugurazione dopo due anni parte la corrosione con tutte le sue tracce Nervi infatti dice guarda non debbono parla della struttura non si deve deteriorare la struttura sotto l'azione del tempo dei agenti atmosferici e soprattutto la struttura deve avere un'intrinseca sanità e robustezza costituzionale proprio sulla robustezza ci sono alcuni aspetti che sono importanti e riguardano per esempio come la struttura o come le strutture sopravvivono a degli incidenti e questo è un concetto che non è soltanto dell'ingegneria strutturale civile è un concetto dell'ingegneria strutturale Cucur degli aeroplani e delle navi è un mio modo di vedere però non sono l'unico condiviso per esempio se voi anni fa mi scrivate a ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano corso di tecnica alle costruzioni era obbligatorio per ingegneri aeronautici questo perché certi concetti come la robustezza e quant'altro sono comuni a tutti i settori strutturali sia che parli di navi marini di grattacielo di po ad esempio gli aeroplani sono tipicamente strutture robuste per esempio riuscite a vedere qua anche con questo squarcio provocato una collisione in area i due aeroplani l'aeroplano è atterrato tranquillamente questo perché la struttura è molto connessa al suo interno l'aerframe di un aeroplano ha delle connessioni strette strutture molto ipostatiche questo è un altro aeroplano che ha avuto un danno vedete qui ci sono ancora le persone tutte chiaramente stravolte è stato perso questo pezzo di fusoliere ma l'aeroplano ha perrato questo perché la struttura è anche compartimentata possiamo perdere un pezzo di struttura ma non tutto l'aeroplano e per esempio se voi guardate i grandi viadotti anche i viadotti in muratura che erano state fatte il ponte di Venezia ha fatto degli austriaci il ponte ferroviario ha fatto degli austriaci a Venezia che collega a Venezia la terraferma è compartimentato nell'area con robustezza si intende che c'è un degrado dolce nella capacità portante della performance in termini intensivi e anche nella diffusione del danno limitato nello spazio e per esempio termini di intensità vedete se qui pensate alla capacità portante anche un pilastro cerchiato di un pilastro rettangolare in cemento armato e qui pensate a un qualche danno per esempio un camion che in retromasso vi taglia con il cassone un braccio della staffa un braccio della una sezione a spirale ed in generale i casti cerchiati condizioni nominali hanno una configurazione estremamente importante perché confinano in maniera ideale il calcestruzzo aumentando la resistenza però se è danneggiata una spirale la spirale si srotola e quindi degrada più velocemente rispetto a un pilastro che se anche perde una staffa non succede niente di particolare la robustezza richiede poi in particolare di valutare complessivamente la risposta alla struttura quindi non bastano gli usuali formati ai stati limiti ultimi ai stati limiti dei servizi bisogna valutare tutto il sistema come collassa e a proposito di questo una cosa che spesso volentieri le norme non parla di cui le norme non parla in casi particolari come le strutture sottoposte a incendio è anche questo aspetto prendete questa struttura qua prendete che magari possa avere questo collasso oppure questo collasso qua la parità di carico però se la struttura collassa in questa maniera questa modalità di collasso è buono perché sicuramente perdiamo le persone e le cose che sono dentro ma tanto le perdiamo anche qua però questo modo di collassare non coinvolge cose o persone accanto mentre questo coinvolge cose accanto e può essere anche un processo non confinato nel senso che collassa questa che collassa su un'altra struttura che collassa su un'altra struttura quindi vedete come nella progettazione strutturale anche le modalità di collasso diventano significative è importante capire come in certe situazioni il collasso può avvenire per esempio pensate tipicamente in questi giorni ci sono stati diversi casi di incendi su grattacieli e speriamo che gli incendi su un grattacielo porti eventualmente a un collasso di questo tipo che se il grattacielo si piega ed è alto 200 metri ti coinvolge tutte le strutture che sono nel raggio di 200 metri nella direzione di caduta il concetto di come una struttura muore in maniera benigna senza coinvolgere altre cose o altre parti dell'intorno è essenziale ed è per esempio il concetto che gli ingegneri meccanici aeronautici hanno di collasso fail safe oppure damage tolerance oppure gli informatici morte graziosa ed è una cosa intrinseca a tutti i tipi di progettazione questa qui è una struttura per esempio che è non robusta fragile sono due dighe in terra una sopra l'altra quindi vedete che il concetto è generale ed è quella che Monari chiama la mentalità progettuale non è che io penso solo ai miei bulloni è una cosa generale qui sono le foto di questi due bacini e qui ci sono un processo di collasso che non è confinato questa cede cade su questa questa cade a sua volta e questo è quello che succede questa è la valle di Stava prima e dopo il collasso delle due righe per esempio uno dei obiettivi della progettazione strutturale è evitare quelli che sono detti i runaway cioè le crescite degli effetti negativi in maniera incontrollata che addirittura escono da quello che tu potevi pensare una uscita enorme un escalation al di là di quello che ci si può pensare ed è incontrollabile sulla resilienza un termine che è bellissimo però è diventato anche antipatico perché ci sta usando anche in maniera proprio pubblicitaria in maniera più oscena anche facendo riferimento a cose che non sono pertinenti non vorrei dirvi niente di più per il fatto di prima nel quel diagramma qui si fa vedere come essenzialmente resilienza è la qualità la possibilità per una struttura di essere riportata a un livello di funzionalità a un livello di dignità strutturale uguale o migliore addirittura di quello che era all'inizio bene io vorrei fare cinque minuti di pausa abbiamo visto queste prime parti qua l'idea di structural art secondo Billington anche con i commenti di Nervi anche Rice e Ferguson l'attitudine partendo dal libro di Moon e Alice sul design e i valori che devono essere in testa al progettista per ottenere qualcosa che sia valido e significativo ci fermiamo qui Marco questa seconda parte di lezione ha un titolo un po' se volete provocatorio come strutturare una cosa che non è strutturabile in effetti per esempio se io ritorno indietro quando ho cominciato la mia carriera ed ero appassionato di aspetti matematici sviluppavo la mia tesi dottorato sull'entropia di Kolmogorov che adesso non mi ricordo neanche cosa sia che cosa serva però mi ricordo che c'era il concetto di problema ben posto secondo Adamard che prevede che qualsiasi problema viene definito in questa maniera qui ammette una soluzione quindi esiste la soluzione soluzione unica la soluzione dipende con continuità dai dati di probabilità di stabilità strutturale del problema in termini analitici ecco come vedete questa è una definizione precisissima astrale se volete e vi dico subito che questa definizione qui può andare bene in un certo senso per un problema acquisito di meccanica strutturale che permette che ha un inquadramento che può essere hard ovvero in cui le strutture presentano schema globale caratteristiche locali univocamente definite in termini geometrici caratteristiche meccaniche i materiali sono assegnati condizioni nel contorno anche e così via tutte queste ipotesi qui alla base rendono il problema inquadrabile in maniera formale e quindi si avvicinano a essere quello che viene detto un problema ben posto secondo Adam marco l'ingegneria strutturale invece no sono formulabili solo in termini software quindi gli schemi globali sono da individuare in termini di caratteristiche geometri meccanismi resistenti materiali reali hanno dei comportamenti difficili le condizioni nel contorno sono da interpretare bisogna quindi decidere che vincoli ci sono e quant'altro ci sono aspetti come per esempio il fatto che la soluzione non è unica sicuramente in generale ma può anche non esistere e poi ci sono degli aspetti che sono difficilmente formulabili per esempio pensate all'aspetto estetico quindi l'ingegneria strutturale si trova un problema di ingegneria strutturale quindi un problema di progettazione non ben posto secondo Adamard e già questo vi fa uscire da tutti gli schemi che sono pensabili per inquadrare in maniera completa formale un problema di progettazione strutturale quindi anche quello che si farà nell'ottimizzazione più precisa e puntuale è una visione distante da quella che è la realtà è solo una parte della visione è quella in mezzo alle onde la visione diciamo un'impostazione elementare del problema di progettazione può essere fatta con riferimento all'attività di problem solving in cui si sviluppa la soluzione con un processo top down esiste quindi una persona che dà le direttive su cui si risolve il problema volete con un approccio che può essere deduttivo se volete qua come se ci fosse non voglio dire Dio che pensa alla soluzione ma qualcosa del genere altra possibilità invece è quella se volete artigianale in cui si assemblano degli aspetti delle parti del problema per arrivare alla soluzione quindi se volete questa è una versione proletaria possiamo dire la realtà è chiaramente mista si parte con delle idee che si sviluppano verso il basso e allo stesso tempo si prendono dei pezzi di soluzione già esistenti per esempio se io ho l'idea di progettare un ponte ho l'idea del ponte lo schema complessivo ad arco strallato quello che volete però prendo certi pezzi che possono essere anche i device dispositivi per il controllo delle vibrazioni per lo smorzamento la dissipazione dell'energia cinetica sono prodotti industriali standardizzati quindi assemblo questi un modo per rappresentare in forma ideale sempre la progettazione più specifica della progettazione la progettazione strutturale è quella che si trova sempre nel libro di Munari in cui vedete il percorso di progettazione passa attraverso questi passi qui il problema è la sua definizione componenti quindi qui c'è una parte di comprensione del problema di scomposizione una parte di base dati di raccolta quello che può essere in termini anche più nobili interpretato come cultura la base del progetto c'è lato creativo lato decisionale si ritorna subito ad aspetti però più materiali come cose concrete la sperimentazione attraverso anche modelli la verifica è una parte essenziale che non può essere diciamo può essere alleviata la sperimentazione numerica quindi la modellazione anche elementi finiti o quant'altro però è inevitabilmente quello che conta dopo il vero la prova del laboratorio è la prova del vero poi gli aspetti di documentazione della soluzione questo è un metodo processo lineare che può essere una prima visualizzazione delle attività di progetto voglio anche differenziare quelle che sono attività di analisi in cui c'è una partenza l'assunzione di dati calcoli che possono essere lineari o non lineari un'attività di post processing dei risultati il processo di analisi è sempre comunque un flusso lineare di attività se invece pensiamo a un processo di sintesi di progettazione il processo è iterativo parte con un certo contatore che indica la soluzione che stiamo esaminando si analizza c'è un test sulla bontà della soluzione se la soluzione è buona si finisce altrimenti si torna indietro con una modifica o un raffinamento della soluzione e vedete questo è quindi un processo di sintesi in cui al suo interno annidato possiamo pensare ci sia il processo di analisi questo modo di operare secondo me è una parte molto schematica dopo dovremo emendare però fornisce un punto di partenza e anche un modo di procedere diciamo nei casi alimentari che può andare bene per esempio su questo ponte qui lo stesso ciclo iterativo può essere pensato in questa maniera questa è la struttura con una sua certa configurazione l'ambiente atmosferico con il vento la temperatura la parte relativa al suolo per esempio con le azioni sismiche si valutano certe prestazioni un processo di analisi si giudica e si decide se va bene o non va bene si può anche cambiare il problema strutturale nel senso che per esempio se la prestazione di questo ponte sotto passaggio tutto l'anno di treni non è verificato si può dire ma il ponte sarà disponibile si dice magari solo 360 giorni su 365 quindi per 5 giorni a causa per esempio del vento forte il ponte non è percorribile oppure in termini di carichi possono passare due Eurostar in contemporanea oppure ne può passare solo uno in contemporanea e così via c'è una quindi negoziazione una riformulazione del problema strutturale in particolare per l'uso legato al traffico e si può ricominciare il ciclo è un processo quindi ciclico e questa è un'altra rappresentazione per esempio questa voi notate una figura a cui sono affezionato perché rappresenta lo stato delle analisi numeriche delle modellazioni numeriche di questo ponte il 6 giugno del 2005 in cui sono definiti tutti i passaggi con cui si arrivava a inquadrare il problema e qui in fondo a preparare il bando di gara per il genere al contatto che si voleva offrire a fare il ponte quindi vedete c'è indubbiamente nel processo di progettazione visto in maniera elementare tutta una serie di attività con un certo ordine un certo flusso che vada qui dal punto 1 al punto 7 e dopo una distinzione anche che può essere messa in evidenza subito tra un metodo progettuale metodo di progettazione prescrittivo prestazionale il metodo prescrittivo come vedremo meglio come vedete meglio con il detrini nel pomeriggio si definiscono come sono fatti i costituenti lì si assembla e si pensa che in questa maniera qui si sia ottenuta una soluzione valida nel metodo prestazionale invece si definiscono le prestazioni e si cercano si scelgono gli elementi costituenti come in questa slide qua oppure in questa quello che mi interessa comunque mettere in evidenza che la visione elementare della progettazione prevede comunque degli schemi a blocco blocchi dei flussi più o meno tormentati questo per esempio è uno schema blocchi che rappresenta l'attività che si fa in caso di una situazione in cui ci sia a contrastare l'incendio non voglio entrare nelle varie caselle perché non mi interessa che poi può essere anche strutturato in questa maniera quindi vedete qui si parte da una serie di passi che si fanno per ottenere in questo caso qui la progettazione strutturale antincendio ecco non mi interessa ripeto entrare nella singola casellina però quello che si vede è che è un processo comunque strutturato con un certo flusso dall'alto verso il basso dal punto 1 al punto 7 questo purtroppo è solo una visione elementare di ogni attività di progettazione perché la situazione reale come rappresentata in questo libro qua è più complessa qui è la rappresentazione come questi dei autori in particolare Schleich che è stato uno degli strutturisti più importanti quello che ha fatto per esempio lo stadio di Monaco le Olimpiadi del 72 è che per Schleich il processo di progettazione non è così lineare con un flusso così ben preciso ma è più rappresentabile da un vortice in cui diverse istanze diversi punti diversi aspetti del progetto l'uso l'economia eccetera sono amalgamati e si spera di arrivare a un punto di convergenza anche se secondo Adamard essendo il problema di progettazione non ben posto non è detto che si arrivi all'esistenza di una soluzione qui entra in gioco quella che è Nervi dice la enorme complessità di fattori che determinano un progetto strutturale che rendono difficile complicato implicato il progetto strutturale e per esempio la definizione di complessità più adeguata secondo me è quella che viene definita da Perrault nel suo libro famoso in cui in effetti la complessità di un progetto dipende da presenza di interazioni tra le varie parti tra i vari aspetti del progetto che sono non lineari se le interazioni sono lineari il progetto è da questo punto di vista semplice e poi se le varie parti del progetto sono tra di loro accoppiate strettamente o in maniera masca in generale più gli accoppiamenti sono stretti tra le varie parti del progetto della struttura e più ci sono interazioni non lineari a per esempio dei feedback delle retroazioni il progetto diventa complicato per esempio in caso di incendio la complicazione è legata al fatto che per esempio c'è una stretta connessione tra il progetto la parte di evacuazione delle persone e la parte di resistenza al fuoco delle strutture è un accoppiamento stretto che rende difficile il problema e qui entra in gioco subito alcune valutazioni come impostare l'analisi a supporto del progetto qui abbiamo questo asse qua che rappresenta l'incremento di complessità di un progetto di una struttura complessità che aumenta se ci sono aspetti non lineari e interazioni strette tra le varie parti della struttura bene se il problema è semplice e abbiamo bassa complessità bastano anche delle analisi qualitative deterministiche il problema aumenta di complessità si può fare ricorso a delle analisi che sono quantitative e probabilistiche però se si supera una certa complessità si ritorna indietro è un'analisi programmatica delle scenarie in cui andrà incontro la struttura è anche un approccio in genere che è detto euristico euristico vuol dire che una persona di esperienza e di conoscenza trova la soluzione con un atto di forza veramente l'atto è arbitrario non deve essere fatta a capocchia perché se no è una struttura che nasce una struttura che non vale niente quindi dopo la scelta euristica è arbitraria però dopo ha la prova finale dal vero della struttura così realizzata è interessante notare che per esempio NERVI osserva che l'idealazione diciamo la concezione strutturale appunto di partenza di individuazione dello schema strutturale raramente è basato sull'intervento di calcoli matematici elevati calcoli matematici calcoli molto complicati non servono nella fase di concezione della struttura sono soltanto un mezzo di indagine successiva di verifica successiva questo è un aspetto significativo che si ricollega al fatto che la progettazione strutturale è eminentemente un atto un evento artistico un atto creativo una delle cose che rende compresso il problema è l'incertezza e soprattutto l'incertezza riguarda quelle che sono le condizioni al contorno in cui si muove la struttura non tanto immateriali non tanto quindi come fatto il cosiddetto dominio strutturale ma quelle che sono le condizioni al contorno del problema questo è un aspetto che il giorno d'oggi è difficilmente messo in evidenza anche dai software che invece presentano la soluzione di un problema strutturale in maniera immediata per esempio in termini le normative sulle combinazioni di carico presentano pagine e pagine di combinazione con tutti i coefficienti parziali di sicurezza ma ci sono per esempio poca attenzione alle condizioni al contorno che erano invece presenti a questo testo che ha mezzo secolo di vita che è fatto dal professor Calzona che era ordinario di tecnica e che colleghi della mia età conoscono perché hanno avuto come professore e così via in questo testo qua per esempio è rappresentato con estrema semplicità questo caso qui suponiamo che noi vogliamo progettare questo telaio qua di cui abbiamo assunto lo schema in questa maniera qui col carico in testa che vincoli poniamo alla base poniamo l'incastro beh magari i plinti sono cedevoli in termini di rotazione ne potrebbe essere un vincolo a cerniera a quel punto là ci potrebbe dire ma pensiamo di mettere un vincolo a carrella da una parte quindi evitiamo di sviluppare l'azione di prestatica orizzontale e le considerazioni non possono essere fatte da un calcolatore sono basate sulle euristiche quindi sull'esperienza del progettista che dice guarda sull'incastro ci posso credere o non credere quindi magari trovo anche le sollecitazioni in momenti con queste due cerniere qua alla base e vi faccio notare che questo è dirimente per quanto riguarda la posizione delle armature dei pilastri perché qui le fibre tese sono da questa parte dovessi essere da questa parte quindi le fibre tese ovvero le varie di armature devono essere messe all'interno del telaio mentre con questo schema qui il momento qua è nullo ma quello che cambia per esempio è l'intensità del momento in testa la stessa cosa per il momento in mezzeria del traverso sempre in termini euristici per esempio il carrello può essere questa situazione qui può essere eliminata perché in base all'esperienza è vero che io posso essere critico e non fiducioso del fatto di avere dei momenti all'estremità dei plinti alla base ma pensare che uno dei plinti possa scorrere può essere ritenuto non verosimile quindi vedete il giudizio sulle condizioni del contorno per esempio è un giudizio ad alto livello che coinvolge l'esperienza e l'euristica del progettista in particolare esiste un bellissimo articolo che vi invito a cercare a leggere che è il cosiddetto articolo di il paradosso di Hambly in cui viene detto che praticamente solo le strutture isostatiche possono essere calcolate in una certa maniera con una certa validità mentre Hambly fa l'esempio proprio dell'esempio banale di uno sgabello con quattro gambe che già risulta in base alla sua sofisticata discussione al di là delle capacità di previsione in termini di comportamento il libro di questo libro qua di Nervi presenta un esempio più complesso che però riporta la stessa cosa voi sapete che Nervi prima della guerra aveva realizzato diversi hangar simili anzi uguali orbetello in altri posti con questa struttura qui non erano stati fatti i calcoli in quei tempi perché non si aveva la disponibilità di calcolatore e quant'altro ma sono state fatte prove sperimentali su alcuni aspetti e quello che viene osservato è questa cosa qui Nervi aveva fatto aveva realizzato questo schema qui diversi di questi hangar in giro per l'Italia e una delle osservazioni che aveva fatto è stata questa guarda se io ti prendo un quarto dell'hangar dello stesso hangar nominale di quello che ho fatto a Orvieto Torre del Lago il primo orbetello il secondo orbetello se io misuro le deformazioni al disarmo di queste quattro avevo rimesse uguali nominalmente uguali trovo una variabilità di riformazione notevole e questa variabilità di quattro strutture nominalmente identiche era legata alle condizioni del contorno e in particolare anche i vincoli ma anche soprattutto magari altri aspetti come per esempio le modalità di esecuzione la variabilità nel materiale e quant'altro e questo porta anche effettivamente al fatto che per certe strutture in particolare quelle statiche il regime statico vero è difficilmente conoscibile e prevedibile questa è la foto del quadro che riassume Morandi che c'è fuori dal mio ufficio accanto la mia porta e anche qui in piccolo viene ripreso questo concetto al di fuori di poche elementari strutture isostatiche tutto il resto essenzialmente è difficilmente prevedibile difficilmente quadrabile c'è quindi una difficoltà una distonia una discrepanza da quello che viene presentato numericamente da Nicocini Calcolo anche con le migliori intenzioni e quello che è la realtà per solentire la correlazione tra le due visioni è molto distante non voglio a questo punto dopo questo aspetto qui relativo a quello che si potrebbe pensare di inquadrare in uno schema che però non è adatto completamente alla realtà mi sarebbe piaciuto se si è avuto più tempo entrare e discutere quello che viene presentato in questo libro che forse è uno dei più importanti nella formazione nell'educazione di un ingegnere però non ho tempo e però questo occhio della mente e quindi le considerazioni che fa Ferguson relativamente alla professione dell'ingegnere del progettista può essere anche riassunto in termini più generali da questa frase di Bergson e dice l'occhio vede solo ciò che la mente è preparata a comprendere quindi per esempio è per questo motivo qua che io sono molto attento alla parte didattica come si impara e come si insegna imparare e insegnare sono due facce dello stesso aspetto perché è così noi siamo preparati a capire a comprendere anche nella progettazione solo cose che abbiamo già nella nostra testa e se non le vediamo ci succede una cosa che è inaspettata e quindi dopo soltanto a posteriori impariamo e rivela in tutta la sua crudezza anche nei suoi limiti quello che è la cultura la preparazione di noi progettisti perché dobbiamo leggere questi libri e perché anche dobbiamo è differente anche il modo con cui vediamo le cose e anche le spieghiamo a seconda se le abbiamo esperite in prima persona oppure le sentiamo per maniera relata io per esempio ho cambiato tanto il mio modo di vedere le cose quando giovane ricercatore insegnavo scrivo alla lavagna delle cose di cui non avevo provato esperienza diretta quando dopo quelle cose le ho fatte le ho subite e le ho viste dal dentro ho cambiato il mio modo di insegnare perché certe cose che prima insegnavo dopo mi rendevo conto che non erano più pertinenti significative questa è solo una cosa con cui si apprende e se volete anche andiamo dietro comunari è la disciplina che serve per prepararsi a progettare non voglio quindi farvi entrare in tutte queste slide che però spero che dopo possiate magari approfondire quando vi distribuirò il pdf uno degli aspetti importanti è comunque la conoscenza dal punto di vista ingegneristico qui per esempio viene presentato un libro che dopo vi consiglio anch'io che è quello di Vincenti in cui per esempio viene anche spiegato come i fratelli Wright sono arrivati a concepire e progettare l'aeroplano prima di fratelli Wright c'è stata tutta una serie di tentativi di progettare l'aeroplano essenzialmente basandosi imitando quello che facevano gli uccelli quindi c'erano tutti schemi di velivoli in cui erano delle ali che sbattevano questo era un modo che non andava bene non ha portato a frutti e per esempio l'osservazione gli esperimenti le cose concrete di Wright dei fratelli Wright su come far volare un oggetto sono il metodo ingegneristico e vi invito a riflettere anche perché per esempio i grossi salti innovativi le grosse ottimizzazioni quelle che domani vedremo innovazioni in grande perché sono dei salti evolutivi sono legati al fatto che qualcuno ha pensato qualcosa fuori dagli schemi come per esempio se voi pensate come farà vedere credo sicuramente la professoressa Melle nell'ultima lezione quelli che sono elementi strutturali come gli outrigger di Grattacieli adesso non so se voi sapete conoscete e così via e lì è un salto evolutivo dovuto a una persona ben precisa che era un progettista che era Fazlur Khan che ha pensato a questi dispositivi qua al posto che mettere la lama di controvento in verticale l'ha messa in orizzontale quindi anche il pensare fuori dagli schemi è un aspetto notevolissimo anche per esempio quello che è riuscire a comprendere in base alla propria esperienza la propria cultura il design clima cosiddetto quindi il contesto tecnico in cui si è immersi si fanno certe attività per esempio tutti i ponti in calcestruzzo armato precompresso che adesso hanno problemi di corrosione di durabilità non sono stati fatti perché tutti i progettisti hanno fatto le cose male sono stati fatti perché tutti i progettisti vivevano in un design clima in un contesto tecnico in cui la durabilità del calcestruzzo era ritenuta infinita quindi è un contesto un modo di vedere tutta la comunità tecnica che sicuramente aiuta i progettisti a indirizzo i progettisti a fare le cose bene ma allo stesso tempo vincola ed è quello che rende il singolo progettista come si dice epistemologicamente cieco non vede cosa al di là di quello che il contesto gli insegna ci sono anche delle considerazioni per esempio alcune pagine notevoli su come sono evoluti su come sono evolute le società di ingegneria da queste modalità qui tradizionali in cui però il progettista e i progettisti erano vicini concretamente vicini all'oggetto che facevano ed erano consapevoli di tutta la cultura della società di ingegneria la situazione moderna è questa per esempio in cui ci si avvicina a queste sono i progenitori di tutte le tecniche BIM attuali in cui il progettista è comunque più distante fisicamente dall'oggetto la struttura che deve essere realizzata ci sono anche considerazioni parlando di conoscenza a base del progetto ci sono anche diagrammi di questo tipo qui che devono essere considerati in particolare per esempio le le conoscenze cosiddette pacite implicite se voi andate vicino a un grande progettista questo non è capace di verbalizzare le idee che stanno alla base del suo progetto perché le ha talmente interiorizzate che per lui è come respirare voi per esempio pensate di spiegare a un bambino come si respira non lo sapete perché è un processo così automatico che è interiorizzato e poi alcune osservazioni sempre su questo punto che vi invito a riflettere è questa occhio agli slogan come resilienza per esempio adesso va di moda anche l'intelligenza artificiale vi faccio vedere questo un articolo di una dozzina di anni fa vedete io non è che sono non ho scoperto oggi il concetto di intelligenza artificiale è una cosa su cui ho lavorato da 15 anni a questa parte e così via e spesso lentieri ci sono degli slogan che sembrano la panacea di tutto non è così dietro ci sono semplicemente degli algoritmi numerici e così via e anche qui gli aspetti sistemici per esempio qual è il riverbero dello stato di degrado di una singola parte strutturale sul possibile funzionamento cambiamento statico complessivo dell'opera qual è l'influenza sul cambio di modalità del collasso per esempio un collasso d'utile per rottura flessionale o per taglio quindi fragile qual è lo scenario che ci potrà essere in futuro il principio di precauzione la robustezza strutturale per esempio come fa un algoritmo numerico anche un metodo di ottimizzazione a capire che la robustezza strutturale si migliora se tu ti prendi più per statica la struttura in questa parte oppure la segmenti in quest'altra parte questi sono aspetti di logica superiore che solo il progettista con la sua cultura può fare e in questo senso qua anche l'educazione è quello che si insegna come si insegna oppure come si impara è essenziale non sto a dirvi le mie idee sul modo di insegnare vorrei passare in questi ultimi quarto d'ora ad arrivare a quelli che sono possiamo dire dei quadri degli aspetti ripetitivi dei pattern si dice con cui si sviluppa il progetto ma uno degli aspetti più importanti è la distinzione che noi dobbiamo fare tra progetti evolutivi e progetti innovativi questo è legato inevitabilmente avere in testa come si è evoluta la disciplina della progettazione strutturale se è civile oppure anche questa aeronautica ripeto per me non c'è differenza tra progettare una struttura io quando ero dottorando tra le varie attività che ho fatto per vivere facevo progettavo motoscafi perché in quel momento lì a Milano vicino al lago di Como c'era costruttore motoscafi che mi chiedeva sta cosa io per i soldi ho fatto anche questo però all'inizio l'ho fatto in maniera inconsapevole tanto per avere qualche soldo poi però dopo negli anni ho scoperto come progettare il motoscafo dopo aver progettato il ponte o un'altra cosa la metodologia quella che dice Munari è una cosa comune e per esempio la distinzione tra evolutivo e innovativo per me io me la materializzo in questi termini qua quando ero un giovane dottorando mi davano da fare una trave in precompresso lavoravo nello studio progettazione il mio capo mi diceva guarda vado a prendere di là in archivio la trave che abbiamo fatto di 36 36 metri adesso ne abbiamo una da 42 da fare prefabbricata per la pizzalotti o per quello che era il prefabbricatore di turno vado in archivio prenda quella trave il disegno eccetera noi la facciamo più o meno un po' più lunga no? allora io andavo nell'archivio di allora negli anni 90 l'archivio era il bagno e sopra la vasca da bagno c'era lo stenditoio in cui venivano stesi i fogli di lucido perché se li arrotolavi dopo si infragilivano si rompevano invece se li stendevi in verticale quello era l'archivio prendevo il foglio il lucido del disegno della trave da 38 metri e più o meno la facevo un po' più grande 42 metri facevo le mie verifiche e quant'altro questo è un progetto evolutivo una cosa che abbiamo fatto più o meno adesso la cambiamo un pochino quindi se volete nel processo crescita le nostre conoscenze le mie crescite io ho fatto la trave fino a 38 metri la devo fare un po' più grande 42 metri più o meno tutte le conoscenze che avevo ce le avevo non tutte perché magari a 42 metri arrivava una trave che aveva un'instabilità a flesso torsionale mentre 38 non ce l'aveva quindi avevo quasi tutte le conoscenze nella mia testa c'erano invece dei problemi che ci sono dei problemi che sono innovativi cose che non abbiamo mai fatto prima quindi lì non potevo andare in bagno a prendere un disegno sopra la vasca da bagno nello stenditorio era una cosa completamente nuova che richiedeva conoscenze nuove e volete questa distinzione è fatta proprio tra progetto evolutivo e innovativo oppure progettazione ottimizzazione in piccolo tu sei più o meno qua per aumentare la performance della sua struttura ottimizzi in piccolo progetto innovativo invece ti fa fare un salto evolutivo crea una nuova specie di animale ottimizzazione in grande in cui tu puoi aumentare tantissimo capacità qui torna però anche in mente lo che è il contesto il condizionamento che noi abbiamo dal resto della comunità o dagli aspetti storici per esempio questo qui è un caso notevole di aeroplano finita la seconda guerra mondiale gli americani dovevano cambiare e bombardire perché avevano usato durante la seconda guerra mondiale erano obsoleti e hanno chiesto alle varie società di presentare una nuova proposta di aeroplano la nuova proposta di aeroplano è questo come vedete in aeroplano si dice tutt'ala c'è solo aala non c'è la carlinga eccetera e qui ci sono una proposta del bombardiere il nuovo bombardiere fatto dal Northrop l'YB49 e che vedete volava e quant'altro i concetti innovativi e anche la cultura tecnica del progettista serve a riconoscere quello che è stato fatto serve a sapere io sono qui vengo da questa tutti i concetti vado da questi altri concetti altrimenti siete persi questo concetto tutt'ala era nuovo no gli americani quando avevano invaso la Germania avevano trovato dei prototipi di aeroplano come questi fatti dai fratelli Horton avevano pensato l'aeroplano tutt'ala in questa maniera l'Horton HO229 il fatto che l'aeroplano abbia solo una ala non abbia la fusoliera è un vantaggio dal punto di vista aerodinamico è un vantaggio effettivo un fatto e per esempio era stato infatti pensato già dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale dopo per fortuna non erano riusciti a sviluppare il concetto però gli americani si erano portati dietro in America il prototipo per sviluppare la cosa quindi era assodato che l'YB49 fatto dal Northrop tutt'ala sviluppando questo concetto qua era superiore al bombardiere tradizionale con la carlinga però nonostante questo il bombardiere quello scelto dalla Air Force era il bombardiere tradizionale con la carlinga perché questo perché il salto evolutivo faceva paura ai decisori ai politici perché il concetto era troppo avanzato non era accettato quindi pensate l'influenza culturale ha fatto scegliere una soluzione peggiore rispetto alla migliore la vicenda però non finisce qui perché se il concetto è migliore alla fine vince questo è il bombardiere B2 sempre fatto dalla Northrop e 40 anni dopo 50 anni dopo hai tutt'ala non c'è la carlinga perché comunque è più efficiente quindi pensate questa vicenda qua che è tipica di come l'evoluzione avviene l'ottimizzazione avviene nella realtà per esempio con aspetti che non sono formulati in termini di equazioni come faccio a mettere dentro i vincoli che i decisori hanno nella testa nel scegliere uno schema strutturale all'altro e ci sono anche dei libri che parlano di altre cose questo di Kuhn però mette in evidenza questo aspetto qua facendo riferimento a aspetti scientifici teorie scientifiche scientifiche guardate i nuovi concetti si affermano solo perché gli oppositori quelli che credono ai concetti precedenti alla fine muoiono io mi sono letto prima il libro in italiano poi mi sono preso anche il libro in inglese perché volevo capire bene il concetto di alla fine muoiono perché non ero sicuro che la tradizione fosse stata una metafora come dire adesso muoiono in che senso muoiono nel libro di Kuhn il muoiono è scritto in termini fisici muoiono fisicamente quando i vecchi se volete babbioni muoiono muoiono fisicamente allora solo allora si può sviluppare le alle volte il nuovo concetto una cosa una frase pesante questa ci sono tutti gli strabismi della storia per esempio il fatto che su certe strutture si scelgono degli ornamenti che fanno riferimento a cose vecchie per esempio all'inizio nelle carrozze ferroviarie si faceva riferimento a schemi formali delle diligenze non sono più attuali oppure il fatto che per esempio anche se ci sono come abbiamo visto schemi strutture concetti più efficaci come per esempio la diatriba che c'è stata tra i inattanti a vela oppure a motore è già stato dimostrato nell'894 che i vapori a elica erano più veloci delle navi a vela oppure se guardate le corazzate durante la prima guerra mondiale vanno ancora tra le vele oggi sono stati anche gli strabismi di quello che uno fa che dopo si perpetua anche magari quando non c'è più motivo per esempio il vice che avevano nel creare sempre orologi più sottili oppure per esempio guardate questa immagine qua questa è una delle immagini delle proposte fatte per il Golden Gate San Francisco la proposta è stata fatta da uno che faceva da un progettista che faceva ponti bascolanti quindi ponti che si possono alzare con la zavorra dietro questo è il ponte basculante questa è la zavorra qui il ponte si alza e il progettista aveva lo strabismo in testa e vedeva ponti bascolanti dappertutto e nella sua proposta per il ponte sospeso di San Francisco sta rivenduto il ponte basculante quindi vedete come ci sono dei concetti dei preconcetti dei pregiudizi che fanno scegliere delle soluzioni che uno ha in testa perché pensa di evolvere mentre magari ci vuole un progetto innovativo qualcosa di nuovo ci sono poi aspetti relativi anche al fatto che quando ci sono delle indecisioni e le incertezze sulla struttura dell'alizzare uno crea una cosa che non è né carne né pesce per esempio questo è un veliero o un vapore tutte e due c'è stata indecisione incertezza non c'era la chiarezza di spirito nel progettista su cosa fare questo va peggio sia del veliero e del vapore preso a se stanno per esempio Rice lo che ha realizzato il Bulgurgo soprattutto l'Opera House di Sidney dice questa cosa che è significativa guardate le volte è meglio un neofita o diciamo uno che non ha chiaramente come le americane dicono ha il fresh look il problema è che non ha tutti i bias precedenti delle storie delle vicende precedenti che lo condizionano nel bene nel male questa è una posizione forse un po' estrema però l'ha anche messa in evidenza limiti i nostri concetti questo è anche un bellissimo libro che è molto discorsivo che però e delle volte anche i libri semplici divulgativi adesso hanno sempre una connotazione quasi negativa e non è così perché uno che ti dice chiaramente le cose ti spiega chiaramente le cose è meglio di uno che invece fa dato il termine tanto casino e non si capisce non è che se uno dice delle cose che non si capiscono è meglio di uno che ti dice in maniera piana funziona così no? i limiti sono ben noti per esempio se voi pensate a certi tipi di struttura ogni struttura ha un schema di range di luce per esempio ben chiara se la luce lo span di una certa struttura è più piccola di quello che è ottimale non va bene non può essere utilizzato come anche se si esula se si sceglie uno schema con una luce troppo grande si esula dalla zona di frattibilità della struttura quindi ci sono dei limiti inferiori e superiori oltre al quale non si può andare questa struttura va bene ottimale in questo range di metri di span se è troppo piccola la somma se è troppo grande la stessa maniera non funziona questi sono i limiti diciamo espliciti ma ci sono anche dei limiti che sono legati proprio alla saturazione del concetto tu hai sotto una certa lunghezza le cose non vanno bene è un range ottimale in cui hai una buona marginalità di incremento di funzionalità di prestazione oltre a un certo limite tu non puoi fare sature capacità della struttura e non soltanto sono aspetti diciamo quantitativi la luce del tuo ponte è sospeso fare un ponte sospeso di 100 metri non ha senso perché sono in questa zona qui come fare un ponte sospeso di 20 chilometri non ha senso perché qui non ci arrivi non è soltanto una questione di numero è una questione anche di concetto di reiterare la soluzione per esempio nelle barche a vele le navi a vele nei clipper a un certo punto si aggiungevano alberi quindi velatura mentre i quadri di vele pensando che andassero più veloci questo era vero però quando si è raggiunto il limite di sette alberi uno dietro l'altro ci si rese conto che marginalmente non si guadagnava niente anzi si perdeva questo è il limite di un concetto concetto di albero più di barca a vele nave a vele con più alberi raggiunge il limite in questa maniera ci sono altri aspetti che sono quasi umoristici oppure di aggiungere ali su un bipleno un tripleno questo non si alza più non vola più ha raggiunto il limite e nella storia ci sono anche errori proprio quasi di ibris di orgoglio di presunzione progettista per cui la struttura muore subito negli anni nel 1600 tutti i galeoni erano sembravano tanto più belli e imponenti quanto più il castello di poppa era alto solo che il castello di poppa diventa così alto dopo la nave perde stabilità e quindi collassa questa non è neanche uscita dal bacino di careraggio si è rovesciata subito quindi vedete che a un certo punto si arriva alla saturazione di un concetto e dopo si può ottimizzare in grande se si inventa un altro concetto è quello che dicevo prima di Faslurkan è per esempio raccontato in questo libro della figlia Faslurkan è quello che ha fatto tutti i grattacieli più importanti di Chicago in giro per gli Stati Uniti lavorava Skidmore Owings e Merrill e per esempio qui potete vedere l'evoluzione di grattacieli in alto fino a qua ci sono strutture entelaiate poi qui c'è la lama di controvento poi guardate il passo successivo la lama di controvento è messa in orizzontale dell'outrigger che dicevo prima e così via poi ci sono soluzioni ancora più grandi triangolate in cui ci sono dei salti dei passaggi di l'ottimizzazione di forma ottimizzazione topologica vedremo domani che vi farò vedere anche la professoressa Mele l'ultimo giorno questi sono aspetti a una parte anche quasi volete filosofici come per esempio io mi ricordo negli anni in cui lavoravo facevo l'analisi per il ponte di Messina presso il ministero una delle critiche filosofiche però considerando anche le cilazionalità dell'opera deve essere deve essere presa in considerazione da questa guarda se io ti metto in fila tutti i ponti sospesi che sono stati fatti noti questa cosa qui questo è il bisansette in Giappone questa è la Sala New York questa è l'Humber questa è la Gratbel questa è la Pasci tu adesso vuoi fare un ponte così quindi non c'è uno sviluppo lineare regolare delle luci dei ponti negli anni adesso tu mi vuoi fare un salto evolutivo fatto così quindi il ponte non può essere fatto perché ha un salto evolutivo troppo grande questa era un'osservazione una critica filosofica se volete però fatta da persone non della strada questa un'osservazione una critica famosa di uno dei più importanti professori esperti di acciaio di taglia quindi una cosa da tenere in conto ed era difficile da smontare perché è un'idea sostanziale no e però è stata smontata in maniera naturale anni dopo questo qui per esempio è il grattacielo che c'è adesso negli emirati arabi Dubai e se guardiamo l'altezza dei grattacieli vedete che c'è il Taipei 101 le Petronas Tower Seas Tower Empire State e così via vedete anche qui il grattacielo a Dubai è un salto evolutivo perché è possibile questo è vero è possibile cioè è vero che in natura non si fa la natura non fa salti evolutivi così grandi però noi stiamo parlando qui di quegli oggetti che diceva Simon sono artificiali non legati all'evoluzione naturale ma legati all'ingegno all'ingegneria quindi negli oggetti artificiali i salti evolutivi sono permessi in natura sono invece più difficili o addirittura non non permessi questa delle dimensioni per esempio ci riporta subito agli effetti di scala nelle nostre strutture e quindi quello che viene anche discusso sempre da Petroschi è uno storico un critico dell'ingegneria in particolare dell'ingegneria strutturale nel suo libro gli effetti di scala sono probabilmente legati per esempio sono noti già dalle ossa di Galileo voi sapete sicuramente e trovano riferimenti nella tecnica nella storia dell'ingegneria della progettazione ci sono esempi questo è durante la seconda guerra mondiale l'aeroplano più grosso del mondo con otto motori fatto dal miliardario quello Howard Hughes è un progenitore di un precessore di Elon Musk e questo aeroplano qui ha fatto solo un volo di due o trecento metri nel bacino di San Francisco perché dopo non riusciva a sollevarsi era talmente grosso era come il monumento equestre di Leonardo da Vinci che non poteva essere realizzato in effetto scala ci sono anche legati alla scala degli aspetti notevoli questo è un ponte che era stato fatto a fine ottocento inizio del novecento un ponte ferroviario che è collassato questo perché la sezione qua sotto era troppo sottile era un problema di estrapolazione stavolta questo è il secondo ponte che è stato in piedi vedete in questo caso qui la sezione più grossa e qui l'estrapolazione era una cosa legata sempre alla previsione si pensava che il ponte fosse soltanto la volta virgola due più grande dell'ultimo ponte del ponte precedente è fatto si è estrapolata la sezione in questa maniera qui con un fattore lineare di crescita l'instabilità come sapete da Eulero il carico critico euleriano va al quadrato della luce dell'elemento quindi un'estrapolazione lineare non era sufficiente a dimensionare la struttura si impara tanto dai collassi strutturali io per esempio come potete immaginare come è ordinario qui alla sapienza ingegneria a Roma con tutte le vicinanze con ministeri tribunali e quant'altro sono spesso chiamato a dirimere a capire come mai una cosa è caduta in testa e così via e io ho cambiato tanto nel mio modo di insegnare delle cose che insegno riflettendo sugli incidenti purtroppo che sono avvenuti riflettendo su quanto sono inutili le discussioni su tanti coefficienti parziali tante guerre di religione coefficiente parziale 1,35 1,40 non conta nulla ci sono dei macro aspetti che sono ben si mangiano ben tutte queste cose qui per esempio questo è un modo con cui evolve anche la progettazione strutturale guardando le cause di collasso qui abbiamo le percentuali failure qui abbiamo il tempo vedete all'inizio anni fa ci sono dei fenomeni come il B che sono non noti quindi se avviene il collasso è perché il fenomeno non era noto poi nel crescere nel passare del tempo questo fenomeno viene inquadrato a livello di ricerca quindi si capisce come funziona a livello di ricerca potrebbe essere se volete anche il collasso per azione aerolastica del ponte Tacoma uno magari non sapeva che c'era poi ha cominciato a studiarla poi col passare del tempo il fenomeno viene anche normato adesso abbiamo le CNR sul vento oppure in un certo momento in un certo istante ci sono dei fenomeni noti enormati dei fenomeni noti a livello di ricerca e dei fenomeni non noti vedete come il crescere del tempo la maggior parte del failure è legata all'errore umano al fattore umano ed è per quello che per esempio le norme tecniche con tutta la loro stratificazione pesantissima che opprime brevemente il progettista non sono poi l'arma giusta per proteggersi dalle failure perché vedete l'eccesso di norme tecniche questa è una lezione tenuta da Satica ordinario di tecnica a Bologna nel 92 dice già tutte le difficoltà che ci sono la stratificazione di norme come adesso si fa tutte le linee guide sull'assessment dei ponti non servono stratificazioni spesso volentieri come diceva il professor Radogna un altro ordinario di tecnica con cui ho lavorato quando sono venuto qua diceva le norme sono fatte tendenzialmente da persone che non hanno mai progettato che non sanno com'è la realtà quindi introducono strati di cose che non servono anzi oscurano la visione chiara che dovrebbe avere il progettista è interessante anche notare che esiste un modello generale in cui si sviluppano le failure non potrebbe dire ma come è questa storia sì gran parte delle failure si sviluppano in questa maniera si può pensare che un progetto strutturale una costruzione sia come uno strato di firewall in cui però il firewall non è perfetto ci sono dei buchi delle lacune delle imperfezioni in questi strati di difesa bene quando questi buchi queste lacune in questi strati di difesa si allineano avviene il collasso quella che era una minaccia produce il collasso vero e proprio se pensiamo per esempio questo modello detto formaggio svizzero perché richiama chiaramente elementa se pensiamo a una struttura e per esempio pensiamo come si realizza una struttura si nasce dal design clima che abbiamo già più volte visto il concepto al design quindi ci può essere magari un buco nel concepto al design ci possono essere dei buchi delle imperfezioni nei disegni nei calcoli nella scelta del materiale dei componenti nella costruzione anche nell'uso eventi magari accidentali o eccezionali poi ci possono essere errori di manutenzione come prima dicevo il device l'appoggio che viene cambiato pensando di cambiarlo adeguatamente invece viene effetto più piccolo monitoraggio eccetera quando tutte queste cose qui si allineano si ha collasso quello che era una minaccia si concretizza in un fatto negativo se per esempio siete esperti di structural fire design questa è la declinazione del modello di Rison con tutti i suoi buchi nelle varie fasi in cui c'è fondamentalmente un'interazione tra il sistema strutturale con le sue proprietà caratteristiche e le debolezze che si hanno allo stesso all'interno del sistema ed è questa interazione che quella che se è stretta come dice Aperro porta alla complessità del progetto in caso di incendi e ci sono tutti gli aspetti il diagramma di flusso viene esplicitato così adesso non sto a entrare perché è solo per farvi vedere come si può declinare questo modello qua e voglio invece chiudere questo aspetto sulle F-LU osservando questo aspetto esiste una sicurezza formale quella che per esempio negli eurocodici l'eurocodice 0 è declinata da questi indici di affidabilità poi in piccolino come nelle migliori nei migliori contratti assicurativi ci sono tutti i disclaimer le eccezioni guarda che tutto quello che noi facciamo di eurocodice non prevede necessario non dà un'indicazione effettiva di quello che è la sicurezza sostanziale della struttura perché qui dentro tutti gli aspetti relativi all'errore umano che abbiamo già visto prima sono preponderanti al giorno d'oggi non sono considerati questa è la sicurezza formale la sicurezza sostanziale tiene conto di tutti questi errori qua ci sono quelli che non sono contemplati dagli eurocodici quindi anche rispetto a quelli che propugnano quadri normativi eurocodici e quant'altro esatti precisi così via bisogna rimanere un po' cauti un po' ready sugli errori soprattutto il giudizio che fermano la nostra attività come progettisti questo è un bel libro e questi sono gli errori di giudizio almeno quelli più che mi hanno colpito di più leggendo questo libro qua come elencati qua vi faccio una domanda ci facciamo una domanda così retorica noi che parliamo di progettazione strutturale di ottimizzazione conosciamo chiaramente tutte queste possibilità qua di errore no? non è che siamo abbiamo la nostra testa piena di ibris di arroganze e pensiamo di essere sempre il giusto noi sappiamo tutti queste cose giusto? Billington per esempio ricostruisce come vi dicevo il fatto che Montedito e Coma era già nato morto anni prima per lo strabismo che avevano i progettisti negli anni precedenti era inevitabile che collassasse che collassasse era la storia già scritta strategie di progetto velocemente questo è anche un altro bel libro divulgativo potete leggere anche su come pensano appunto ingegneri le strategie con cui noi progettiamo sono queste copiamo questa è un'osservazione che mi è stata fatta dal professore Sammele è un punto che mi ha chiarito bene il professor Sammele che qui voglio ringraziare e copiare vuol dire donentis in maniera banale per prendere spunto vedere cosa hanno fatto gli altri o Rocha Robertson quello dei lettori gemelle Price Zorzi Buckminster Filler Frey Otto ce ne sono anche tanti altri questi sono quelli che mi sono letto ripassato in questi mesi prima di prepararmi questa lezione e per esempio Nervi riflette su sta cosa guardate l'allievo ponendolo di fronte a progetti altisonanti senza che abbiano fatto tutta la giusta dinastica preparatoria senza che abbiano acquisito un minimo di cultura si perde dare mano a un progetto enorme a uno studente è la cosa più insessata che si possa fare quindi dopo copiare la seconda strategia è assemblare in serio in parallelo meccanismi strutturali in serio in parallelo per esempio questo è un meccanismo questa copertura qua in parallelo questo è un meccanismo in serie questo dà già il DNA alla struttura non potete fare niente ottimizzando la struttura se avete deciso che nasca in parallelo in serie con tutte le considerazioni che ci possono essere per esempio questa la luogo all'ottimizzazione morfologica della struttura copiare share type live share type con strutture controventate a croce questa può essere una struttura un'ottimizzazione topologica queste connessioni qua come vi farò vedere anche venerdì la professoressa mele è ottimizzazione invece topologica non sappiamo perché magari vi farò vedere alcuni aspetti quindi sono proprio situazioni che entrano nel DNA della struttura e non sono una volta date è così non c'è niente da fare accoppiare funzionalità differenti permettere che il sistema sia chiuso in se stesso in cui per esempio queste spinte dell'arco sopra sono internalizzate dal cavo sotto l'ultimo aspetto che voglio farvi vedere noi progettiamo in genere strutture o per integrazione o per specializzazione sono strategie quindi aspetti qualitativi che difficilmente si possono ottimizzare con metri numerici questa è una macchina da corsa la Porsche 917 costruita per specializzazione è una macchina che ha vinto per anni da 24 ore di Le Mans e la specializzazione era fatta così la struttura portante era una struttura tubulare che sosteneva la carrozzeria che era una cosa come vedete che si sopponeva alla struttura quindi la struttura tubulare portava le ruote i motori i freni e quant'altro e sosteneva la carrozzeria la carrozzeria chiaramente aveva aspetti aerodinamici e per esempio la 917 è stata una macchina che ha vinto per tanti anni per tanti circuiti perché si poteva specializzare ovvero vedete qua sopra c'è la versione della Porsche 917 coda corta nei circuiti invece in cui c'erano lunghi rettilini si usava stesso telaio tubolare ma sopra si metteva la carrozzeria con coda lunga che aveva dei maggiori vantaggi aerodinamici era più fluente nei circuiti corti con tanta curva si metteva questa che aveva dietro un alettone che schiacciava di più quindi aveva più grip quindi si riusciva a spostare la macchina cambiando solo specializzando a seconda del circuito la carrozzeria questa è una progettazione per specializzazione delle parti questa è un'altra macchina famosa che è la Lotus 25 questa è Jim Clark vedete che è all'interno della macchina e questa è una struttura invece che lavora per integrazione perché era una struttura non con schema tubolare ma uno schema un guscio uno scocca fatto così e questo è uno schema uno schema di struttura di macchina a corsa monoguscio in cui è integrata la capacità portante e la capacità aerodinamica quando integrate le due cose in genere avete un maggiore vantaggio in genere soluzioni integrali sono più efficaci dal punto di vista strutturale e pesano di meno quelle specializzazioni pesano di più però potete cambiarle e nel senso di una struttura civile vedete voi avete le due possibilità per esempio questo schema qui intelaiato tutto incastrato oppure lo schema pendolare con la maglia di controvento in questo caso qui se per esempio pensate a una forza orizzontale il carico è distribuito uniformemente sulla struttura e questo rappresenta il principio di regolarità della struttura la struttura più regolare e questa è regolare al massimo meglio risponde ai carichi pesa di meno questa pesa di più e per esempio concentra i carichi in questo punto qua nelle fondazioni in questo punto che è contrario al principio di regolarità però permette altri aspetti per esempio una struttura più flessibile se dovete ampliarla e aggiungere una navata è più facile oppure supponiamo che arrivi un sisma che vi danneggia la struttura e la struttura è tutta danneggiata e non è facile riparare qui per esempio sarà danneggiata la maglia di controvento tutto il resto sarà inclinato in moto rigido però se volete ripristinare la struttura la rimettete in bolla e cambiate il diagonale quindi anche qui dietro queste concezioni qua non c'è soltanto l'aspetto istantaneo della progettazione oggi è così si prevede quello che succederà in futuro dovrò ampliare il mio capannone ci sarà un sisma devo sostituire qualcosa bene con queste riflessioni qua con dieci noti di ritardo un quarto da di ritardo ho chiuso la mia lezione in cui vi ricordo brevemente i concetti che abbiamo visto oggi tutto quello che secondo me ma secondo anche gli autori che vi ho presentato i libri che vi ho indicato sottostà l'idea di progettazione strutturale quindi di ottimizzazione in particolare quella che deve essere l'attitudine del progettista e i valori che lo devono guidare qui ci sono gli aspetti che arrivano che sono alla base che sono esplicitati della strutturazione di un problema che non è ben posto che sono i pattern del design i tipi di progetto evolutivo innovativo eccetera quelli che sono lo che abbiamo nella testa noi e quelli che hanno nella testa la comunità che ci sta intorno i pregiudizi e anche le cose positive che ci sono come si può imparare dai collassi e infine le strategie che dobbiamo avere in testa e che possiamo utilizzare a seconda degli scopi per ottenere un progetto strutturale che sia efficace vi saluto con questo vi ricordo soltanto che pomeriggio alle 15 c'è il dottor Petrini che ci parla di aspetti legati al performance based design in particolare gli edifici sotto l'azione del vento l'azione sismica vi ringrazio l'attenzione grazie grazie buon pomeriggio va bene alle 15 d'accordo